Ecco, mi sento un po' in castigo lì sopra, lì dietro, così mi sento molto più a mio agio. Buonasera a tutti, bentrovati alle persone con cui ci conosciamo già, perché ci sono visi conosciuti e tanti visi nuovi. Ecco, bene, siamo qua insieme per condividere questo tema, strumenti operativi per affrontare le tematiche dell'autismo, in un corso che porta il titolo Le sfide dell'integrazione, che l'ufficio ha preparato e condiviso e preparato per tutti i docenti, giusto, delle scuole, di ogni ordine e grado. Iniziamo con una riflessione. Ecco, è bello avere a volte, tenere in tasca, io dico ai ragazzi, questo tienilo con te, ogni tanto pensiamoci. Ecco, è importante per noi docenti conoscere le caratteristiche dei nostri alunni e in particolar modo se sono alunni con bisogni educativi speciali e portano con sé una certificazione di disabilità. È importante conoscere le caratteristiche per venire incontro ai loro bisogni, per scegliere gli strumenti operativi che riteniamo opportuni nella realizzazione del percorso educativo dei nostri alunni. Non si è autistici a tempo determinato, una patologia che perdura fino alla vecchiaia. Conoscere e comprendere l'autismo è il primo passo, condividere il loro pensiero è il primo segno di rispetto. Questo lo lasciamo come riflessione, come nostra cosa, ecco, da tenerci. L'autismo, i documenti che ci dicono, abbiamo pensato che una prima parte di dedicarla un po' alla presentazione delle caratteristiche, di che cosa... Parlare di autismo significa parlare delle... non bastano tre ore, ecco, quattro ore, cinque ore, insomma, però abbiamo cercato alla prima parte almeno di presentare un po' le caratteristiche perché pensavamo che ad alcuni potessero essere utili, ecco, trovandosi di fronte a un'esperienza nuova, scolastica, ecco. Posso chiedere gentilmente chi ha lavorato e chi lavora al momento con all'unico disturbo dello spettro? Ah, benissimo, bene, caspiterina, perfetto, bene. E allora, questi sono i documenti che ci dicono che parlano di autismo. Sono tre, le linee guida, il codice ICD-10 e il manuale diagnostico-statistico della salute dei disturbi mentali. Le linee guida sono state scritte nel 2015 in Italia dal Centro di Ricerca della Salute Mentale. Ne sono state pubblicate due copie, una per i tecnici, l'altra per gli educatori, gli insegnanti, e raccolgono tutto quello che scientificamente si conosce rispetto al disturbo dello spettro autistico. Per quello che riguarda invece il codice ICD-10 è quello che forse noi a scuola conosciamo meglio, no? Perché ci troviamo nella diagnosi il codice F84.009, i nostri ragazzini possono essere F84.5.6 e il codice ICD-10 è stato redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove in questo manuale attraverso una lettera, che nel caso del disturbo dello spettro è la F e dei numeri, vengono catalogate tutte le disabilità. F84 è quello del disturbo dello spettro autistico. Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali è il manuale più utilizzato al mondo. È stato scritto da dei neuropsichiatri americani nel dopoguerra e si chiama 5 perché sono arrivati alla quinta edizione. Bene, tutti e tre. Ah, non ho preso il... va bene, grazie, scusa. Ecco, vedete, poi avete modo dopo... era per portarvi l'esempio di come nel codice ICD-10 viene classificato il disturbo dello spettro, ma entrambi le tre fonti, tra virgolette, con parole diverse, ma tutti sono d'accordo nel definire che... andiamo avanti... nel definire che... l'autismo si manifesta in deficit nell'area della comunicazione sociale e deficit di immaginazione. Poi, man mano scorriamo le slide, andremo nello specifico, adesso è un po' l'inizio, l'introduzione, no? ma di ogni singolo punto vedremo esempi e vedremo di approfondirlo per conoscere al meglio, anche concretamente. Le principali manifestazioni cliniche sono tre. I bambini presentano un deficit comunicativo, un deficit di immaginazione e un deficit sociale. Le altre manifestazioni, anche se non sono le prime, erano le manifestazioni, diciamo così, le più importanti. Altre manifestazioni, però, che noi troviamo nei nostri alunni con disturbo dello spettro sono ansia, anomalia dell'attenzione, anomalia sensorale, deficit delle funzioni esecutive. Anche di queste vedremo singolarmente, andremo nello specifico. Per quello che riguarda l'ansia, i manuali, gli studi, dicono proprio che i docenti dovrebbero ricordarsi quotidianamente che le nostre meraviglie a scuola sono ansiosi. Perché? Perché, anche se noi non vediamo la loro ansia, sono ansiosi perché impiegano tante energie, in capo a una giornata che stanno a scuola, a capire cosa succede intorno a loro, a capire quello che gli viene detto e cosa devono fare. Anche se noi, dopo vedremo quando parleremo delle emozioni, non riusciamo a cogliere le emozioni dei nostri alunni che abbiamo davanti, dei nostri 50, 60, 80, perché qui abbiamo alzato le mani in tanti, non riusciamo a cogliere le loro emozioni, però loro le hanno. Ecco. Allora il discorso dell'ansia, dicono i docenti che tengano conto di questo aspetto. Bene, iniziamo. Le manifestazioni generali erano tre, vi ricordate? La prima è il deficit comunicativo. Dei nostri 90 alunni che abbiamo qua dentro, che rappresentiamo, possiamo trovare alunni che parlano tanto, alunni che parlano poco, alunni che non parlano. Questo per dirvi che non abbiamo un deficit uguale a tutti i ragazzini che sono stati certificati con disturbo dello spettro, ma possiamo trovare e incontrare queste tre tipologie di deficit comunicativo. E dobbiamo ricordarci che fino a una decina d'anni fa le statistiche dicevano che il 50% delle persone con disturbo dello spettro non erano verbali. Oggi, a dieci anni di differenza, il 70%, le ultime statistiche riportano che il 70% delle persone con disturbo dello spettro invece hanno acquisito una capacità verbale. E questo è dovuto all'individuazione precoce del disturbo dello spettro e alle attività, alle scelte dei percorsi che si fanno per aiutarli, giusto, nel loro cammino. Problemi nella produzione. Comunicazione verbale. Allora, comunicazione verbale è difficoltà nella pragmatica della comunicazione. Noi sappiamo che la pragmatica è l'uso del linguaggio nell'interazione sociale. Quando noi facciamo delle chiacchiere con i nostri colleghi insegnanti e quando i nostri alunni dall'infanzia alla scuola superiore fanno chiacchiere con i loro compagni. La difficoltà nella pragmatica, nella comunicazione, è l'uso del linguaggio. Loro non riescono, sono in difficoltà. È logico che quello che viene detto dipende sempre dalle caratteristiche di ognuno. Mi raccomando, non è che tutti sono così. La difficoltà sta nel non cogliere quando tocca a me a parlare. Se io vado, sono un bimbo della primaria e tutte le mattine prima di andare a scuola faccio colazione con il cartone animato dei puffi. Mi piacciono i puffi. Ho il mio grande puff in tasca. Vado a scuola col mio gioco. E i miei amici in classe, nella classe prima che frequento, nella seconda, parlano dei puffi perché li hanno visti anche loro. Io ce l'ho in tasca, ma non so quando tocca a me. Voglio dire a loro, anche a me piace il grande puffo, ma non so quando tocca a me. È come il ragazzo delle medie o delle superiori che si trova il compagno, che gli dà la cuffietta perché sta ascoltando una canzone bella che piace ai ragazzini. Anche lui vorrebbe dire, sì, ieri sera io ho visto il programma televisivo, a me piace la canzone, però non sa quando deve intervenire. Quella è la difficoltà nella pragmatica, nella comunicazione. Le caratteristiche nomine del linguaggio sono generalmente tre. L'inversione pronominale, l'ecolalia e l'uso idiosincratico delle parole e della frase. Allora, l'inversione pronominale. Le nostre meraviglie possono parlare in seconda e terza persona. E io docente, questo devo capire bene se questo succede, perché io se la collega che si chiama... Sonilla, che vado lì e dico a lei, tu hai sete, e sono io, Lorenza con disturbo dello spettro, lei è la mia maestra, e io dico tu hai sete, lei dice, no no, grazie, è caldo, ma non ho sete. Ma io non stavo chiedendo a lei se aveva sete, stavo dicendo io, Lorenza, ho sete. Adesso l'esempio è banale, però il bisogno, cambia il significato della comunicazione. E allora è importante tenere presente l'aspetto che ci può essere dell'inversione pronominale. L'altro aspetto che, sempre che fa parte delle caratteristiche nomine, è l'ecolalia. Noi possiamo sentire i nostri alunni che ripetono una frase che hanno sentito o da un cartone animato che loro piace, o in un film, o perché il papà tutte le mattine dice buon lavoro amore mio, ci vediamo a mezzogiorno, e loro ripetono per dire buongiorno amore mio, ci vediamo a mezzogiorno, arrivederci amore... Ecco, così, slegati dal contesto in cui sono, ripetono questa frase. E questa è l'ecolalia. Invece, l'uso idiosincratico del linguaggio è quando usano un linguaggio non convenzionale. È semplice, l'esempio, se io dico cara maestra, oggi, io con disturbo dello spettro, invece di dire la mamma oggi mi porta al parco in macchina, se dico la mamma oggi mi porta in BMW al parco. Cioè, hanno un uso non convenzionale del linguaggio. Problemi con l'articolazione del linguaggio e della voce. Allora, normalmente, cioè adesso non so, dipende da chi abbiamo di fronte, dall'esperienza e così, però, generalmente i ragazzini con disturbo e i bimbi parlano pianino. Parlano piano, un po' sottovoce, non hanno una voce che così si diventa importante. E, sempre in discorso generale, hanno una voce che non è ricca di piani, di forti, che non sottolinea gli aspetti, ma una voce, a volte può succedere, di incontrare una voce un po' meccanica. Vi chiedo scusa, lo dico con rispetto, questo, della persona. Proprio perché è una voce un po' meccanica, un po', tra virgolette, senza tanti colori. Ecco, una voce di questo tipo. E problemi con l'articolazione del linguaggio sono questi due. Comunicazione non verbale, mancato uso della gestualità. Allora, se non glielo insegnate, loro non vi dicono ciao maestra, ciao prof, non battono cinque quando sono più grandi. Ma perché non hanno l'uso della gestualità? Problemi nella comprensione. Però, questo, dopo vedremo, possiamo insegnarlo. Non è che non possiamo insegnare a salutare. È importante. Problemi nella comunicazione verbale. Possiamo avere dei ragazzini che non comprendono in toto quello che a loro viene comunicato come se loro fossero appartenenti a un'altra nazione con un'altra lingua. Possiamo avere ragazzini che colgono parzialmente la frase che noi diciamo a loro. Possiamo avere ragazzini che colgono tutto. È importante che noi siamo al corrente di quello che loro percepiscono nella nostra comunicazione perché se io dico, Lorenza, adesso andiamo in palestra e se io di quella andiamo in palestra colgo solo, Lorenza, andiamo e non so dove. Certo non sono serena perché adesso devo andare con una persona e non so dove andiamo e forse sono un po' ecco, titubante nell'andare con questa persona e non ho capito dove devo andare. Questo per cogliere che è molto importante tutto ciò, no? e l'altro aspetto è l'interpretazione letterale del linguaggio l'uso di metafore. Se la maestra dice guardate ragazzi ai piedi della montagna c'è una bellissima baita tutti guardano la baita Lorenza con disturbo dello spettro cerca i piedi della montagna ma la montagna non ha i piedi è come quando dico se io dico a un bimbetto vieni, vieni Lorenza con me oggi faremo mille cose o Emanuela dice vieni, vieni Lorenza facciamo un compito dove va? da chi fa un compito non da mille cose ma anche la maestra che dice facciamo mille cose lo dice perché gli vuol bene perché ne vuole fare con lei perché vuole essere gentile con lui con tutto super a fin di bene però dobbiamo ricordarci che c'è un'interpretazione letterale del linguaggio se io ho una fame ho un buco allo stomaco Lorenza cerca il buco nello stomaco o Lorenza spende un sacco di soldi ha le mani bucate e Lorenza sta aspettare di vedere il buco nelle mani allora dobbiamo porre attenzione anche a questo aspetto ecco mancata comprensione della gestualità allora se io dico vieni, vieni mi raccomando vieni che andiamo durante l'intervallo i bimbi giocano fuori nel giardino ci sono bellissimi giardini e la maestra dice vieni, vieni Lorenza che andiamo è finito l'intervallo immaginiamoci Lorenza non coglie il significato della mano che mi sta chiamando e coglie parzialmente la comunicazione verbale la Lorenza potrà mai andare in classe se la maestra mi chiama in questo modo ecco è importante cogliere questi bene l'altra manifestazione generale era il deficit sociale il deficit sociale è la difficoltà nel comprendere interagire con il mondo sociale perché per capire al meglio perché queste nostre meraviglie hanno difficoltà nell'interazione sociale con gli altri ebbene porre attenzione a come avviene lo sviluppo delle abilità sociali in uno sviluppo tipico il nostro sistema cognitivo è organizzato secondo una gerarchia di priorità per cui le persone la loro voce i loro sguardi le loro azioni hanno la priorità su qualsiasi altro stimolo e questo lo si vede perché c'è quel bimbetto neonato lì lo si vede dai bambini appena nati quando i bambini sono appena nati cosa succede? riconoscono la voce della mamma si girano che hanno tre ore di vita giusto? hanno il contatto oculare se piangono che è passato non so sei ore dalla nascita se la mamma li prende in braccio loro cosa cercano? c'è la ricerca della condivisione dell'affetto se li prende in braccio il dottore questi continuano a piangere che colgono che non è la mamma giusto? ecco cosa succede già da appena nati? avviene abbiamo l'intersoggettività che è definita come la co-costruzione di significati emotivi socialmente condivisi questo avviene nello sviluppo tipico quando quella meraviglia che è appena nato sta attento alla voce della mamma e che dopo quando va a casa sta attento è attratto agli oggetti che ha intorno è attratto se la mamma va lì nel passeggino e quante volte un bimbo anche di pochi mesi noi andiamo lì diciamo qualcosa lui risponde ghe ghe adesso per fare l'esempio con un giochino ma lì c'è lo scambio e l'attenzione e il fatto dei turni nascono da lì tocca a me tocca a te quando noi parliamo con dei bimbi piccolini questi aspetti ecco anche ad esempio capacità di interpretare e anticipare il comportamento degli altri se il bambino sul passeggino vede la mamma col biberon cosa pensa? si mangia se il comportamento degli altri quante volte una mamma va incontro al bimbo e il bimbo allunga le braccia le nostre meraviglie no non hanno questi aspetti questi sono fondamentali per partecipare allo scambio sociale e entro i 18 mesi cosa succede? abbiamo l'attenzione congiunta l'intenzione congiunta l'emozione lo sviluppo dell'imitazione lo sviluppo del gioco simbolico e della parola lo scambio di turni questo avviene in uno sviluppo tipico entro i 18 mesi loro no perché non hanno non sono attratti il criterio dell'attenzione verso gli stimoli non è quello non sono arrabbiati con noi se non ci guardano non sono arrabbiati con i loro compagni se non vanno verso i loro compagni non hanno l'attenzione agli stimoli sociali come priorità allora nel deficit sociale abbiamo anomalie nell'orientamento e nell'attenzione verso gli altri vi ritrovate giusto comportamento visivo anomalo alcuni dei vostri allunni possono guardarvi altri no altri a volte degli 80 ragazzi che abbiamo qua dentro degli 80 allunni che abbiamo qua dentro possiamo avere diverse tipologie di comportamento visivo anomalo mancanza di comportamenti prosociali non esulteranno mai la mia squadra di classe ha fatto gol o ha fatto canestro nel torneo dell'istituto non esultano anomalie nella capacità di leggere il comportamento degli altri quando un bambino va incontro a un altro bambino e gli porta al gioco il bambino con sviluppo tipico coglie e dice beh adesso Davide sta venendo verso di me perché mi porta la macchinina che mi piace tanto Lorenza se vede con disturbo dello spettro se vede Davide che gli porta la macchinina vede solo un bimbo che arriva non coglie l'intenzionalità del comportamento e allora dopo succede che Davide può dire beh insomma a Lorenza gli porto i giochi non è mai contenta non gli interessa forse questo per dire no ecco problema nel fare attenzione agli altri la loro attenzione non è catturata dagli stimoli sociali e questo difficoltà nel capire che cosa fanno gli altri cosa sentono cosa provano e cosa pensano è una cosa di grande insomma io quando ci penso io forse durerei dieci minuti un quarto d'ora in un posto dove faccio fatica a capire cosa fanno gli altri cosa pensano cosa non è una situazione così facile giusto per quello si parla anche di ansia se a scuola ecco a scuola a casa ecco perché la difficoltà c'è nel cogliere quello che abbiamo intorno comportamento visivo anomalo il suggerimento abbiamo visto sia che vale il suggerimento che viene dato è quello sia per i bimbi piccoli sia per i ragazzi grandi che non si prende mai un ragazzo spostandogli il viso e dire guardami adesso dobbiamo fare questa cosa è bene non fare una cosa del genere noi dobbiamo catturare lo sguardo dobbiamo andare incontro lui non è che non ci guarda perché non vale niente a parte che c'è a noi tutti i giorni qualcuno ogni due non so ogni tre per due ci viene lì e ci gira il viso insomma non è che siamo proprio penso contenti però noi dobbiamo catturare lo sguardo del nostro alunno attraverso l'attenzione ad esempio adesso dico una banalità ma è così che è perché lui non è attratto da Lorenza Lorenza non è attratta da Angela ma se Lorenza è attratta dalle bolle e Angela viene di fronte a me e fa le bolle io vedo per prima le bolle perché mi piacciono le bolle però poi se Angela sta lì mi accorgo che c'è Angela ok allora il suggerimento è di non prendere e di voltare il viso e dire guardami adesso facciamo deficit di immaginazione il deficit di immaginazione che era il terzo delle tre presentati cosa comporta abbiamo comportamenti rigidi e ripetitivi in cosa consiste una resistenza al cambiamento tutte le mattine se io Lorenza so che mi aspetta Angela davanti alla scuola e con Angela andiamo in classe a fare le attività che sia dell'infanzia della primaria della scuola media delle scuole superiori però io so che c'è Angela e vado in classe con lei se quella mattina Angela non c'è io faccio molta fatica tanta ne faccio perché non so cosa mi succede lei non c'è chi arriva e allora è bene sempre avvisare dopo vedremo ne parleremo ecco ebbene poi ci sono delle situazioni in cui capita che le persone non ci possono essere all'ultimo momento o che in classe ci sia l'acqua e non si può andare in classe bisogna andare nel laboratorio perché si è rotto un termosifone e allora però va spiegato va detto va visto dopo dico visto perché parleremo di quali supporti e appunto resistenza al cambiamento in cosa si manifesta in comportamenti motori stereotipati i comportamenti motori stereotipati più generali sono tre sono lo sfarfallio scusate con una mano non riesco lo sfarfallio delle mani ecco annuite tutti il battere le mani in questo modo e muovere il tronco avanti e indietro vi ritrovate ecco perché questi comportamenti rigidi non in assoluto viene definito dagli studiosi però per una buona percentuale pensano che questi comportamenti siano presenti perché se io faccio questo movimento io questo lo conosco non mi spavento nel farlo se invece vedo Angela che viene con un libro e Angela non la conosco non colgo faccio fatica a interpretare le sue intenzioni faccio fatica a interpretare il suo linguaggio e io non mi lancio verso Angela come farebbe un mio compagno di classe ma sto bene mica sto bene nel senso avete inteso ecco com'è ma questo movimento lo conosco e non mi spaventa questo quello che ho intorno che mi può accadere sì il deficit di immaginazione allora in questo deficit per comunicare in modo chiaro richieste istruzioni ai bambini e agli adulti autistici è necessario curare attentamente l'organizzazione dello spazio la struttura del tempo l'organizzazione del materiale la relazione adulto-bambino la scomposizione delle difficoltà in modo che il bambino ne incontri solo una alla volta dopo Emanuela parlerà di questi aspetti io vi dico solo questo quando sta per suonare la campanella cosa diciamo ragazzi bambini quelli che sono prendete mettete via andate a prendere il cappotto mettetevi in fila che dopo scendiamo quanti lavori devono fare ne abbiamo rinunciati 15 eh il Lorenza è lì che dice ma chissà cosa avrà detto la maestra che tutti si alzano e mettono via che io non ho ancora capito ok per fare un semplice esempio poi dopo si parlerà degli altri punti ecco ricordiamoci questo che vale anche per noi mica solo le nostre meraviglie è motivante ciò che si capisce se la cosa è confusa non si è motivati a provare ma questo anche noi eh se noi siamo in un posto dove non capiamo cosa succede non è che siamo tanto bene eh oppure che vogliamo provare chissà fare cosa che non conosciamo e non sappiamo cosa andiamo incontro è motivante ciò che si è in grado di fare se si conosce almeno un po' io devo partire come docente sempre dai punti di forza e allora per questo è motivante ciò che risponde al proprio stile emotivo e percettivo cioè io so che mi piacciono le bolle so che mi piacciono le macchinine so che mi piacciono le ruote delle macchine i dinosauri quello che è parto tenendo conto dei punti di forza per l'approccio ecco ansia e regolazione emotiva ricordiamoci sempre che anche i bambini autistici provano emozioni l'assenza di emozione congiunta che vi ricordate che si creava nei 18 mesi quando si parlava di ecco quello che abbiamo visto prima non permette di costruire quella modalità di esprimersi che rende leggibile le emozioni noi non le leggiamo però ci sono oppure noi ne vediamo che non pensiamo che non conosciamo e non capiamo bene quali tipo di di comunicazione è perché a volte c'è un'anomala manifestazione delle emozioni perché se uno è contento noi sorridiamo ok invece quel bambino io avevo un ragazzo alle superiori che quando c'era l'intervallo lui era contento perché vedeva tutti i suoi compagni e lui saltellava nel cortile il fatto di saltellare tenendo in mano un pezzettino di rametto perché era legato al suo rametto o a un qualcosa era contento manifestava il suo essere contento così un altro invece quando era arrabbiato noi cosa diciamo teniamo il broncio quando siamo arrabbiati lui invece batteva i pugni sul tavolo cioè sono diverse le manifestazioni delle emozioni possono essere diverse e Lorenza con disturbo dello spettro ha difficoltà nel riconoscere le emozioni degli altri allora se io sono faccio un esempio adesso di quei più grandi perché ne ho fatti un po' di più di quelli più piccoli vi chiedo scusa allora se sono arrabbiata se io sviluppo tipico sono arrabbiata con quel prof perché sono arrivata alle 8.05 si entra alle 8 per l'ennesima volta mi dice stai fuori un'ora entri un'ora dopo e sono arrabbiato entro in classe l'ora dopo e sono arrabbiato vado vicino al mio compagno ma il mio compagno con disturbo dello spettro fa fatica a riconoscere le emozioni degli altri e io dico beh sono arrabbiato non mi dice niente è come se non esistessi ma non è che facciamo finta che sia Lorenza 2 con disturbo dello spettro non vuole prendere in considerazione la sua compagna è perché non è attratto dagli stimoli sociali e allora anche un bimbetto che è preoccupato perché la sua mamma gli ha detto no il gioco lo prendo a casa io a scuola non si possono tenere i giochi e va in classe e piange perché vuole il gioco e il suo compagno che sia bimba o bimbo con disturbo dello spettro non coglie l'emozione che lui ha lui pensa beh allora io non gli interesso poi non gli dico che mi dispiace perché la mia mamma mi ha preso il gioco lui non mi dice niente ecco questi sono aspetti da tenere presenti difficoltà ad adattare il comportamento alle circostanze ecco è come questo che ho fatto appena l'esempio l'importanza del linguaggio nelle regalazioni delle proprie emozioni e qui parliamo di linguaggio interno allora adesso faccio un esempio dell'infanzia inizia l'anno scolastico i vostri bambini arrivano a scuola cosa succede quelli che fanno l'inserimento tutta la mattina piangono giusto oh è vero eh piangono anche Lorenza con disturbo dello spettro piange perché è a scuola invece vuole andare a casa ok la sua mamma è andata via Emanuela che è una bimbetta che è in classe con me che piange anche lei lei ha però la sua mamma le ha detto guarda Emanuela non preoccuparti lei la sua mamma le ha detto guarda Emanuela non preoccuparti a mezzogiorno vengo a prenderti anche la mamma di Lorenza ha detto guarda non preoccuparti vengo a prenderti a mezzogiorno non piangere però Emanuela mentre piange dentro di sé dice beh adesso resisto gioco un po' mangiamo e poi per fortuna viene la mia mamma Emanuela ha il pensiero interno e fa questo tipo di pensiero Lorenza piange e non lo fa è diverso? è tanto ok anomalie sensoriali scusate ogni tanto guardo l'orologio perché ci siamo dati dei tempi non vorrei sembrare maleducata ecco anomalie sensoriali adesso siamo abbiamo già parlato di quei tre punti delle principali manifestazioni abbiamo parlato del linguaggio abbiamo parlato del deficit sociale e del deficit di immaginazione vi ricordate che erano tre poi ho detto dopo ci sono delle altre manifestazioni cliniche che andremo a vedere la prima è dalle anomalie sensoriali dice questi questi alunni possono avere ipo o ipersensibilità a determinati stimoli perché allora i nostri sensi l'udito l'olfatto il tatto la vista ci fanno funzionano un po' come dei filtri no? abbiamo la consapevolezza di quello che succede intorno a noi perché i nostri sensi sono c'è un equilibrio no? e capiamo quello che ci viene detto quello che se sentiamo un rumore se ci dà fastidio siamo in grado di coglierlo e di andare vicino o meno se siamo disturbati o no però cosa succede? invece le nostre meraviglie possono avere un'ipo ipersensibilità cioè a determinati stimoli che sono il rumore la luce il tatto possono avere comportamenti volti a difendersi da sensazioni sensoriali e comportamenti volti a ricercare sensazioni sensoriali in che cosa significa questo? all'uno prima superiore appena arrivato quando quando suonava l'allarme scusate appoggio il microfono lui non usciva la prima cosa che faceva si alzava in piedi tutti si muovevano tutti così lui stava là non si muoveva poteva venire giù poteva venire giù la scuola e lui stava là con le sue mani perché per lui quel rumore non era un rumore che già è fastidioso con quella tromba lì che quando suona dà fastidio per lui era molto più amplificato perché aveva un'ipersensibilità al rumore lo stesso a meraviglia ci abbiamo messo quattro anni di scuola superiore per festeggiare il suo compleanno e non è una bugia non vi sto dicendo vi racconto solo una verità perché al pensiero di andare in classe immaginatevi insomma ci saranno colleghi delle superiori i bimbi fanno confusione così ma anche alle superiori i ragazzi non scherzano quando giocano tra di loro quando si spingono quando ecco e lui non voleva festeggiare perché c'era troppo rumore all'inizio quando per conoscerlo anche i ragazzi hanno detto ma Lorenzo perché lui va fuori spesso dall'aula non gli siamo simpatici e io dicevo no non è che non gli siete simpatici è perché se tu ascolti il volume della radio a 5 per lui è come se fosse in classe ci fosse un volume a 15 per dire e allora gli dà fastidio e così poco poco negli anni anche i ragazzi moderavano perché poi basta dirle le cose condividerle moderavano l'intensità perché con quei vocioni che si stanno diventando uomini ok negli scherzi e così e dopo 4 anni abbiamo festeggiato il compleanno ma il compleanno non è stato in classe con i suoi compagni perché lui diceva sempre no 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 insomma alla fine ci siamo riusciti ci abbiamo messo del tempo perché perché i suoi amici gli hanno fatto tanti auguri ma sottovoce e allora gli ho detto allora ti è piaciuto che hai festeggiato il compleanno sì molto e allora lo rifesteggi un'altra volta sì perché ti è piaciuto perché non era forte eh allora dobbiamo stare attenti cogliere nei nostri alunni quali e questo è così il discorso delle luci così il discorso del tatto ok adesso ho fatto l'esempio con con quello del rumore ecco guardate questo sono testimonianze di persone che hanno scritto libri con Asperger con alto funzionamento e ha scritto il mio udito è come avere un apparecchio acustico con il volume bloccato su altissimo è come un microfono aperto dove entra tutto ho due scelte tenere acceso ed essere inondato dal suono o spegnerlo questa scrittrice eh non aveva questo questa sensazione cinque minuti al giorno ma l'aveva da sempre e anche l'altra il mio ambiente educativo ideale scrive una persona con disturbo dello spettro sarebbe pensiamo pensiamo agli ambienti ideali agli ambienti che abbiamo noi a scuola il mio ambiente educativo ideale sarebbe un ambiente con una stanza con eco e luce riflessa molto ridotta un'illuminazione lieve e diffusa noi abbiamo invece giustamente tutte le nostre luci proiettata verso l'alto piuttosto che verso il basso quello che andava bene a lei sarebbe un ambiente che tenga conto del canale unico e dell'ipersensibilità percettiva e del sovraccarico di informazioni e non assuma la realtà percettiva sensoriale cognitiva emotiva o sociale dell'insegnante come l'unica esistente quante volte apriamo le finestre che cambiamo aria certo che è giusto cambiare aria ma noi lo facciamo in buona fede questo non dico che adesso non bisogna mica più aprire le finestre oppure accendiamo le luci spegniamo le luci a volte nel nostro ecco lì c'era scritto ecco a me piacerebbe che ci fosse un po' più di attenzione diceva la scrittrice no? vi sono molte cose che le persone autistiche spesso tentano di evitare quei nostri 80 l'unica abbiamo qua che rappresentiamo il controllo esterno il disordine il caos il rumore la luce forte il contatto il coinvolgimento l'implicazione emotiva il fatto di dire dai allora muoviti dimmi insomma cioè comunque essere guardati o costretti a guardare sfortunatamente gli ambienti educativi sono per la maggior parte molto affezionati a quegli stessi elementi che ci più ci ripugnano ma questo non vuol dire che noi dobbiamo rivoluzionare dobbiamo porre attenzione e sapere che può dar fastidio ecco basta solo fare attenzione non è che adesso dobbiamo cambiare la luce di tutte le scuole e fare chissà cosa ma porre attenzione ai bisogni dell'altro ecco l'ingresso a scuola e la ricreazione sono due momenti allora noi possiamo avere io ho avuto degli alunni che entravano dieci minuti dopo l'ingresso degli altri perlomeno nei primi anni perché era un momento di confusione terribile questo si è concordato si è condiviso se deve già creare a questa meraviglia qua una tensione tale per cui non vuole entrare ma perché non vuole entrare perché se quel rumore per lui è amplificato cento volte non ci sta bene in quel momento con tutta la confusione e allora questi e anche la ricreazione sono momenti che possono essere belli sì però bisogna porre attenzione a come strutturarli questi momenti stimoli sensoriali socialmente accettabili perché mi viene in mente c'era un bimbetto che insomma lui appena poteva trac in giardino andava nel fango e con le mani là lui tutto quello che era fango e la collega sta dicendo ce n'è uno anch'io che fa sempre così allora noi cosa abbiamo fatto abbiamo dato il pungo che è un pochino cioè è sempre più o meno la stessa sensazione che lui cerca e gli piace tantissimo ma da un punto di vista sociale non è più che tutte le volte che al limite non si sporca non si ecco è bene proporre alternative a ecco qui ho fatto l'esempio delle scuole superiori perché quando ci sono le assemblee d'istituto chi è qui delle scuole superiori che ho visto qualche firma ecco le assemblee d'istituto sono momenti in cui c'è caos nel senso buono questo lo dico costruttivo però momenti di dove tutti i ragazzi sono insieme dove discutono se capita che ascoltano anche un po' di musica volume alto ecco quel ragazzo di cui vi dicevo prima che ci abbiamo messo 4 anni per festeggiare il compleanno noi c'era il salone dove si facevano le assemblee d'istituto scusate noi per tre anni siamo stati fuori dalla porta su una poltrona in quarta e quinta in quarta siamo andati andavamo a vedere sulla porta e in quinta stavamo in fondo seduti questo per dire che alcune cose nel tempo conoscendole prendendo confidenza possono cambiare possiamo insegnargli delle cose un altro ragazzino invece che durante lui era un tipo che amava la scuola amava i suoi compagni gli piaceva da matti venire a scuola però nello stesso tempo aveva paura di mettersi in relazione con i suoi compagni e aveva paura della folla allora però a lui voleva era curioso voleva stare insieme a loro lo stesso e allora cosa faceva allora l'assemblea d'istituto bim boom facevano tutto quello che dovevano fare e lui girava con l'walkman lui ascoltava la musica classica dentro di lui e nello stesso tempo si godeva quello che vedeva che facevano i loro compagni scusate ho detto male ma avete capito cosa volevo dire ecco perché riusciva aveva trovato uno strumento che lo avvicinava a quello che lui piaceva nello stesso tempo era rilassante perché lui stava ascoltando una musica classica e non una musica rocchettara ecco i tornei immaginate dentro le palestre dentro quando si fanno i tornei di pallavolo di basket e così occorre porre tanta attenzione ecco scusa sì sì allora deficit delle funzioni esecutive allora difficoltà nella pianificazione del comportamento dunque l'organizzazione integrata di una serie di processi quali l'attenzione la memorizzazione la pianificazione fanno sì che le persone con sviluppo tipico come noi qua dentro possiamo avere un'interpretazione organizzata della realtà che ci circonda e siamo in grado di fare cosa di organizzare il nostro comportamento di pianificarlo e di raggiungere gli obiettivi esempio la professoressa la dottoressa Pancaldi mi dice guarda Lorenza per favore guarda se c'è una fotocopia dove mi fanno una fotocopia vai a cercarmi una fotocopia e dico certo Maria Grazia vado subito allora aspetta dov'è che ho visto la fotocopia cosa faccio ah devo uscire dall'aula lungo il corridoio poi là ho visto che ci sono i bidelli e mi fanno la fotocopia cosa ha fatto il mio pensiero ha organizzato il comportamento l'ha pianificato e ha raggiunto l'obiettivo anche i bambini acquisiscono questa capacità e l'affinano crescendo attraverso che cosa attraverso con sviluppo tipico eh sto dicendo sempre attraverso la manipolazione attraverso l'osservazione degli altri bambini attraverso il gioco con i compagni attraverso il gioco del far finta l'andare a scuola le loro attività acquisiscono la capacità di pianificare il proprio comportamento ed fare cosa e fare in modo di risolvere anche situazioni per agire in modo pianificato e scegliere anche la situazione migliore cosa vuol dire se io vado anche in una classe di bimbi dell'infanzia chiede l'infanzia qui ecco classe prendiamo la seconda cioè quelli di quattro anni se io vado in classe in una classe dell'infanzia dei bimbi di quattro anni e dico bimbi andiamo prendete il materiale che facciamo un bel disegno cosa fanno i bimbetti sanno che nel cestino giallo c'è il foglio sanno che nel cestino blu ci sono i pennarelli se arrivano nel cestino giallo che c'è il foglio e finito cosa fanno o sanno perché voi gliel'avete detto che c'è un cestino di riserva per avere il foglio oppure dicono maestra sono finiti i fogli risolvono le situazioni e quando vanno a prendere i pennarelli se si trovano i pennarelli grossi e i pennarelli sottili selgono il pennarello che a loro piace di più per fare il loro disegno hanno selto per loro la situazione migliore le capacità di pensiero di un bambino con autismo si sviluppano in modo differente il funzionamento intellettivo globale può presentare delle compromissioni ed è per questo che io in classe posso avere degli alunni con disturbo dello spettro con medio alto basso funzionamento possono avere anche il QI uguale al loro compagno di classe o anche un QI eccellente in ogni caso il funzionamento intellettivo di un bambino con autismo presenta caratteristiche che lo rendono qualitativamente differente rispetto al funzionamento intellettivo di un bambino senza autismo il profilo di sviluppo si presenta disomogeneo e troviamo abilità superiori nell'area motorio-plastica e un pochino di difficoltà nell'area cognitivo-verbale l'area cognitiva poi nella scuola andiamo a valutarla con cosa? con le abilità di base e con le abilità di secondo livello le abilità di base che sono il nostro che abbiamo sempre chiamato cosa devono saper fare i bimbi leggere scrivere e far di conto le abilità invece di secondo livello sono quelle che incontrano i bambini quando andranno ad approfondire ogni singola disciplina all'ingresso della scuola media scusate passatemi il termine e questo abbiamo difficoltà nella pianificazione perché è un altro sviluppo del pensiero il mio pensiero fa quei passaggi vi ricordate quelli che ho detto prima il loro no non fa quei passaggi problemi a modificare il proprio comportamento l'abbiamo detto prima perché manca la flessibilità quella flessibilità che permette a Lorenza di dire beh oggi incontro Angela non c'è Angela allora vado con Emanuele o vado con Carlotta che tanto poi faccio lezioni lo stesso e vado a casa in serenità questa flessibilità non c'è perché il pensiero la pianificazione del pensiero è in difficoltà c'è difficoltà nella pianificazione del pensiero anomalie dell'attenzione tempi brevi di attenzione quando abbiamo alunni che hanno un funzionamento basso cioè con un cui basso allora i tempi di attenzione sono davvero limitati difficoltà nel spostare l'attenzione da uno stimolo all'altro cioè la difficoltà sta ad esempio nel passare l'attenzione dal quaderno alla lavagna quello è un passaggio che per loro è difficile preferenza verso i dettagli allora noi abbiamo detto fino adesso che non sono attenti agli stimoli sociali però si accorgono se nella lavagna il gessetto che era spostato a destra viene spostato con la punta dall'altra parte oppure se il cancellino adesso dico che non so neanche se c'è più nel senso che adesso non c'è insomma però il cancellino è stato spostato o è stato cambiato allora hanno difficoltà nel cogliere l'aspetto generale ma sono attenti a quella moschina quel puntino nero che c'è vicino al pulsante che accende la luce della classe che ieri non c'era e noi non l'abbiamo nemmeno visto carenza adesso andiamo avanti lo vado lo dico non ti rubo tempo ecco carenza nell'uso sociale dell'attenzione abilità di attenzione condivisa cioè gli esperimenti dell'eye tracking sono esperimenti che sono stati fatti utilizzando delle telecamere a infrarossi queste telecamere a infrarossi fanno sì che segnano dove il bambino con disturbo dello spettro guarda bravissima Angela dove guarda e allora hanno fatto delle serie di prove di simulazione hanno creato un gruppo di bambini con disturbo dello spettro un gruppo di bambini senza con sviluppo tipico e hanno fatto osservare questi due gruppi di allunni una persona che insegnava loro un'azione come fare un timbro su una su una busta allora hanno visto utilizzando queste telecamere che i bambini con disturbo dello spettro non hanno mai guardato la persona hanno sempre guardato il movimento della mano che prendeva il timbro e andava sulla busta mentre i bambini senza con sviluppo tipico hanno guardato la persona e il movimento hanno avuto attenzione all'intenzionalità dell'adulto che voleva fare il gesto di mettere il timbro ecco per dire che scientificamente provato che non guardano le persone ecco questo per darvi un'idea comunque sono studi ecco fare attenzione ai volti in particolare agli occhi è fondamentale per capire le intenzioni pensiamo a noi eh pensiamo a noi quotidianamente i desideri e le emozioni degli altri perdendo queste informazioni cruciali i bambini con autismo hanno meno indissi per dare un senso al comportamento degli altri e di conseguenza per imparare da quello che fanno gli altri quante cose noi facciamo perché vediamo gli altri pensiamoci impariamo tantissimo dagli altri ecco i punti di forza sono questi tre disegni sono tre ragazzi grandi che hanno già finito le scuole superiori e in alcuni con lui ho la possibilità nel senso che è lì perché lui mi dice che io posso parlare di lui e raccontare quello che ha fatto e sono autorizzata da lui che già maggiore ne ha già anche votato ecco fa la settima se dovessi dargli un'età di scuola e gli altri due sono ragazzi che hanno dei punti di forza tanto grandi ecco quelli sono il ragazzo che disegna benissimo che fa delle mostre che fa ecco anche questa ragazza questa è una ragazza di Roma che ha scritto dei libri la sua mamma e insomma è molto è un personale però adesso Bianfretta non vi posso raccontare abilità di discriminazione analisi visiva lui ha fatto uno stage ha fatto alternanza scuola lavoro chiamiamolo come vogliamo in un'edicola e qual era l'obiettivo quando entrava doveva salutare dire buongiorno e vendere e aiutare imparare a vendere i giornali dentro a una cifra di 10 euro 20 euro non è che facessimo ecco per dire degli obiettivi con gradualità nel rispetto delle caratteristiche della persona e lui perché ho messo questa cosa questa foto perché tutti i giornalai gli edicolanti alla sera devono fare il reso devono dire quello che non hanno venduto e quello che è rimasto lì e l'edicolante non vedeva allora che arrivasse il mercoledì e il venerdì quando c'era lui perché in tre secondi lui si ricordava tutti i giornali che erano nella seconda fila nella prima fila nella quarta fila e lei diceva io non sono mai stata così bene perché quando c'è il reso che c'è lui io in tre minuti faccio il reso lui si ricordava tutto e allora questo è un punto di forza e a lui piaceva tantissimo stare in edicola punto di forza che ha aiutato a salutare non che per dire che faccia chissà quali saluti tiene delle conferenze però insomma tutto quello che poteva essere di aiuto a lui e lui ecco questo per portarvi un esempio e la capacità di analizzare e comprendere le regole che governano sistemi chiusi ecco che alcuni ragazzi ad esempio lui diceva scusa io compio gli anni l'otto di agosto che giorno è e lui mi diceva martedì nel 2017 ma nel 2018 invento è perché io non lo so fare mercoledì e tutti i suoi compagni dicevano ma come fa perché c'era questo aspetto qui può essere un punto di forza questo per dirvi ecco che questo ma non è ecco poi dopo io ho finito e sono anche quasi in orario ho solo tre minuti in più ecco mica finito dopo ritorno ecco era per alternarvi per non stancarvi troppo anche le voci e così allora qui abbiamo le scuole di ogni ordine e grado prima infanzia abbiamo le nostre meraviglie che sanno muoversi autonomamente che camminano che corrono ma generalmente non sono in grado di fare delle richieste e i genitori e i docenti colgono ogni piccola segnale per capire qual è il bisogno sono bambini che non sono interessati al gioco degli altri e non sono interessati che gli altri vengono a fare il loro gioco quando poi però c'è un percorso di crescita e si possono fare le cose quando arrivano alla scuola primaria che se mi scappa elementare non sta bene quando arrivano alla scuola primaria si trovano un passaggio mica da poco è un passaggio impegnativo le richieste sono completamente diverse rispetto alla scuola dell'infanzia alla scuola primaria vengono richieste abilità di comunicazione di interazione di flessibilità nel comportamento tutte cose che loro stringono un po' e allora dobbiamo andargli incontro però è importante sapere che quando a sei anni hanno già definito il profilo hanno già definito il loro profilo nel senso che si coglie già se sono come come possiamo aspettate volevo essere possiamo coglierse abbiamo un basso funzionamento medio alto funzionamento ecco e il profilo globale si chiama possiamo è già definito e in questo modo possiamo però attivarci capendo già alcuni aspetti in modo che loro acquisiscono delle competenze imparino delle cose anche perché a sei anni avviene un'organizzazione così dicono i medici io non voglio fare il medico e non lo sono avviene un'organizzazione neurale che dà la possibilità a loro di imparare tanto non è perché se c'è un basso funzionamento o un medio funzionamento non imparano nulla tutti possono imparare a noi serve capire da dove partire per fare del nostro meglio per loro la pre-adolescenza già in pre-adolescenza sviluppo tipico che non sono né carne né pesce sono già in crisi loro hanno già bisogno di avere qualcuno vicino immaginiamo un bambino che è in difficoltà giusto ecco e anche qui è molto importante attraverso la relazione dopo Emanuela dirà degli aspetti fondamentali ecco di come essere vicino questi ragazzi quali strumenti operativi utilizzare perché possono imparare tanto sia per quello che riguarda la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado noi possiamo insegnarli insegnare delle bellissime cose non esistono delle ricette sarebbe troppo facile il nostro lavoro giusto se il pay della Lorenza andasse bene al pay dell'angela al pay suo tutti io ne faccio uno e vanno bene a tutti tutti i ragazzini tutti eh perfetto no ci sono però degli strumenti operativi che adesso condivideremo che possiamo utilizzare e che cercando ecco di andare incontro ai bisogni di ogni singolo allunno adesso do la parola a Emanuela che lei sta là giusto Emanuela ecco io mi metto a sedere chiedo con permesso annunzio che passo posso eh buongiorno Lorenza però intervieni se per caso vuoi aggiungere dire ok anche quello che volevi raccontare prima allora come ha detto Lorenza prima eh si impara eh ciò per cui siamo motivati no delle attività che sono per noi innanzitutto motivanti e poi impariamo eh ciò per cui siamo gratificati pensiamo noi siamo qui a fare una formazione perché così possiamo lavorare meglio essere più contenti nel nostro lavoro troviamo il nostro lavoro più efficace pensiamo a qualunque ambito della nostra vita no la gratificazione la conferma di quello che facciamo che è una cosa fatta bene eh è una cosa che è fondamentale ci spinge ad andare avanti e ad agganciare a questo degli ulteriori apprendimenti per questi bimbi è una cosa che è fondamentale quindi come strategia didattica prima noi vi proponiamo appunto l'uso dei rinforzi che suppongo conoscerete no quindi che cosa intendiamo per rinforzo può essere qualcosa qualcosa di materiale di tangibile dopo vedremo tanti esempi perché c'è un lungo ragionamento da fare sul rinforzo oppure qualcosa di immateriale come ad esempio dammi un 5 o il pollice in su qualunque cosa che possa funzionare con i bambini con cui lavoriamo comunque qualcosa che è considerato un premio una conferma dell'aver fatto bene qualcosa o di essersi comportati nella maniera richiesta ovviamente man mano che l'alunno cresce no cresce di grado scolastico cresce di età anche se le problematiche possono restare insomma con obiettivi per età più basse comunque possiamo provare a cercare di adeguare il rinforzo almeno un po' in modo che sia socialmente accettabile o che sia adeguato alla fascia di età dei suoi compagni d'accordo perché possa avere uno scambio anche con loro d'accordo una lode verbale o appunto un 5 ok questo è un aspetto che dobbiamo tenere presente sempre il rapporto con gli altri cercare di trovare un aggancio e il rinforzo esterno perché è così importante perché come diceva prima Lorenza il pensiero interno il linguaggio interno sono cose che in questi bambini tendenzialmente non ci sono ci sono in una maniera molto limitata quindi gli va data proprio anche qualcosa che è plateale ok molto molto chiaro e l'ultima frase che abbiamo messo è se si promette qualcosa bisogna mantenerlo perché dare una disconferma laddove invece avevamo detto se fai questo poi fai quest'altra attività o andiamo a fare una corsa o ti faccio vedere un oggetto o un video qualunque cosa noi abbiamo promesso bisogna che la manteniamo se no il bimbo dopo dice ma io perché devo seguire quello che tu mi proponi se poi tu non mantieni la promessa fatta ecco ricordiamoci per quello che ha detto Lorenza prima loro sono molto precisi nel ricordarsi le cose e a volte proprio richiedono da noi in racconti o nel rievocare episodi le stesse identiche parole che noi abbiamo usato la prima volta quindi facciamo attenzione all'uso del linguaggio che utilizziamo con loro perché a tutti sarà capitato che le parole vengono ricordate ecco allora nel rinforzo si parla anche di token che cosa sono questi token e di token economy si parla sono dei simboli degli oggetti che hanno valore simbolico che di per sé possono anche valere poco e niente proprio come anche un gettone cartaceo dove abbiamo appena disegnato sopra uno smile o un pezzo di carta con qualcos'altro che costruiamo per questo bambino poi ne vedremo tanti esempi quindi il valore reale può essere anche pochissima cosa ma il loro valore simbolico è importante perché possono essere scambiati appunto con queste attività gratificanti piacevoli con questi oggetti o queste attività che il bambino desidera passo oltre poi torno sulla task analysis quindi il rinforzo è conferma e motivazione come abbiamo detto no e per non irrigidirsi perché come abbiamo visto la rigidità è uno degli elementi caratteristici è uno degli elementi che può frenare tanti passi che noi vorremmo che loro facessero ma che sono difficili da smuovere da alcuni livelli ecco quindi cerchiamo di fare una osservazione attenta un confronto anche con la famiglia prendiamoci il tempo per mettere insieme un menu di rinforzi che non si esaurisca solo in una o due cose perché se no poi come facciamo ad esempio molti bimbi gradiscono quasi unicamente il rinforzo alimentare ma il peso è un aspetto da tenere molto sotto controllo in questi bambini per cui anche perché spesso ci sono dei farmaci in gioco cioè è un aspetto quello dell'alimentazione molto delicato quindi dopo vedremo che ad esempio ci sono dei rinforzi alimentari che possono essere molto utili perché una volta che l'hai mangiato dopo è finito io non ti devo togliere niente dopo lo vedremo meglio però ecco cercare di costruirsi una gamma di rinforzi non limitata come possiamo scegliere i rinforzi allora lì gioca come dicevo l'osservazione e la condivisione con la famiglia e con chi ci ha preceduto come docenti nel ciclo precedente con gli educatori cioè cerchiamo di fare un'osservazione condivisa congiunta e ovviamente ci chiediamo che cosa l'alunno fa spesso che cosa fa volentieri che cosa cerca di procacciarsi a che cosa anela magari ci sono quelli come dicevamo prima che sono affascinati dalle bolle altri che hanno una canzone vogliono riascoltare quella alcuni hanno una determinata merendina oppure dei giochi d'accordo cerchiamo di osservare e di costruirci una gamma di rinforzi di supporto allora vediamo un po' qui abbiamo messo alcune immagini no? cibi da poco sani a più sani le bolle il 5 e consideriamo alcune caratteristiche del rinforzo che il rinforzo dovrebbe avere allora quando stiamo facendo un'attività e vogliamo rinforzare il fatto che quell'attività è stata fatta bene ok avanti così il rinforzo lo dobbiamo dare in quel momento non possiamo dirgli adesso poi tra 10 minuti te lo do no il nostro gesso deve essere contingente e poi si passa ad altro e quell'altro segmento dell'attività verrà rinforzato a sua volta poi un altro pezzo e un rinforzo d'accordo e il rinforzo per quello dicevo dobbiamo osservare quello che è gradito all'alunno perché magari per noi una cosa è bellissima ma per l'alunno non è assolutamente significativa e allora non avremmo alcun motivo di proporre questa cosa soprattutto non avremo alcun esito sperato d'accordo l'interesse non c'è verso quell'oggetto verso quell'attività quindi deve essere chiaro e comprensibile sia che è riferito all'attività che stiamo rinforzando o al comportamento che stiamo rinforzando sia comprensibile per lui ecco perché è meglio che il rinforzo sia che il rinforzo si auto esaurisca perché soprattutto laddove ci sono anche comportamenti problema che possono insorgere se io oltre a stare lì con te fare l'attività che ho costruito con te ti do il rinforzo poi te lo devo anche togliere io divento la persona che fa passatemi il termine però un'azione un po' aggressiva nei tuoi confronti che può essere percepita come tale io so che dopo ti faccio fare qualcos'altro e te lo darò di nuovo ma tu non lo sai per tutto quello che ci ha appena spiegato Lorenza quindi non diamo mai per scontato che quello che noi abbiamo in testa che poi riproporremo il bimbo capisce che poi gli tornerà questo non è scontato ok e su questo ci possiamo aiutare con l'aspetto visivo torneremo adesso sulla task analysis e su altri supporti visivi però lo dobbiamo avere ben presente d'accordo e questo non vuole dire che tutti i rinforzi devono essere di questo tipo ok che si devono esaurire da soli no io posso anche dare le bolle mettere un timer o a seconda della capacità cognitiva e di mediazione con l'adulto perché abbiamo detto non c'è un ragazzino uguale all'altro quindi noi sappiamo in che termini possiamo concordare dei tempi dei modi degli spazi con l'alunno d'accordo quindi quello che noi diciamo voi calatelo nella situazione insomma in cui siete e provate a capire che è tutto relativo ok alle capacità e alle caratteristiche della singola persona perché ovviamente il nostro scopo è quello sempre di portare a una gradualità progressivamente diminuito lo scopo sarebbe quello di affrancare il più possibile dalla necessità di un rinforzo soprattutto tangibile però a volte possiamo anche non arrivarci a volte ci arriviamo in maniera molto più limitata di quello che ci saremmo auspicati potremmo cambiare la modalità ma non i tempi d'accordo ecco l'idea sarebbe che possiamo allungare i tempi dell'attività e poi rinforzare o calare i numeri dei rinforzi quali sono le tipologie più generali dei rinforzi può essere un rinforzo alimentare può essere un rinforzo sociale per questo dicevo se ipotizziamo come dopo vedremo delle attività in piccolo gruppo possiamo aiutare spiegando ai compagni come rinforzare e un darsi un 5 è un rinforzo che può funzionare bene d'accordo se è capito dal ragazzino anche negli ordini di scuola come la secondaria di secondo grado il rinforzo può essere dinamico ci sono molti bimbi che hanno bisogno di scaricarsi per cui andare fuori un po' nel giardino andare in palestra rumore permettendo effetto palestra permettendo può essere un buon tipo di proposta di rinforzo oppure abbiamo appunto tutto l'aspetto del token ecco quando si parla di token economy appunto ci si riferisce al token che indica insomma vuole dire gettone ma nella economy vuole dire sistema ok che può essere più o meno complesso perché ad esempio se io vi faccio vedere un oscar no che cos'è più che il valore di per sé è tutto quello che rappresenta no come traguardo raggiunto da attori registi tutto il lavoro che c'è stato dietro quello è un oggetto simbolico una medaglia sì ha valore di per sé perché magari è d'oro è d'argento ma più che altro il suo valore grande è quello simbolico no quindi possiamo accumulare no questi gettoni e se il nostro alunno eh ci sta ad un percorso anche abbastanza complesso vedete che ad esempio ci possono essere no delle tabelline che voi costruite man mano che fa un'attività gli date un gettone il gettone lui la mette insieme a voi sulla tabellina quando ha cinque gettoni ha il il rinforzo l'attività gradita ok avete già utilizzato la token economy sto parlando di cose conosciute perfetto e naturalmente io devo sfruttare quello che funziona sulla mia situazione quindi nulla mi vieta che se il mio alunno predilige un personaggio eh io posso costruirgli i gettoni con la faccina del suo personaggio piuttosto che uno smile asettico glieli posso fare su misura d'accordo o se il mio alunno ama che ne so le stelline la mia alunna le stelline i cuoricini così posso trovare qualcosa che sia accattivante per lui ok allora torno un attimo sulla task analysis eh questa striscia che voi vedete qui raffigura non so se l'avete anche dal fondo eh l'andare in bagno no quindi abbasso i pantaloni eh mi siedo prendo la carta tutte delle eh sì sequenze ma segmentazioni di un'attività anche breve che però l'alunno ha bisogno di vedere in tutte le sue fasi perché perché così seguendo un segmento dopo l'altro quindi un'immagine dopo l'altra può capire che cosa deve fare d'accordo quindi non abbiamo paura di segmentare anche azioni che a noi sembrano brevi compatte semplici intuitive perché lo possono essere per noi ma per il nostro alunno no ok il lavarsi le mani no dove abbiamo il rubinetto il lavandino eccetera la sequenza del lavarsi le mani e poi lo vedremo anche nella nell'angolo del lavoro ok l'organizzare i tempi quello che vi diceva prima Lorenza era no nel deficit di immaginazione io non so quello che mi aspetta questo mi può generare ansia e disorientamento no quindi l'organizzazione e la scansione chiara delle attività e dei tempi no di articolazione della mattinata tramite supporto visivo e tramite altri supporti come ad esempio il timer che vedete qui sono fondamentali perché rassicurano tranquillizzano io so che quando il timer suona questa attività è finita basta può essere fatto con un timer che suona ma se il suono non è gradito perché magari io ho un'ipersensibilità no sensoriale riferita ai rumori ai suoni eccetera non userò certamente un timer fatto così posso costruirmi una ruota che gira con degli spicchi un altro tipo di segnale ovviamente è sempre meglio che sia qualcosa che si interrompe da sé se il rinforzo è ad esempio il vedere il video posso programmare perché lo strumento si spenga nel momento in cui il video è finito e non lo devo togliere d'accordo comunque tornando sull'organizzazione del tempo in quanto tale allora ricordiamoci strutturazioni chiare precise e non è detto che per le sue necessità speciali io debba lavorare sempre a tu per tu con lui e siccome ha bisogno di un determinato contesto perché ha bisogno di un determinato contesto e adesso andremo a vedere come organizzare lo spazio ma questo non vuol dire che quello sia l'unico spazio in cui lui può lavorare e per tutta la durata del tempo che lui passa a scuola il tempo a scuola è una risorsa fondamentale e che dopo i 19 anni non torna più quindi sta a noi sviluppare il più possibile la sua potenzialità di vivere tutti gli aspetti in termini di apprendimenti in termini di socialità che la scuola gli può dare d'accordo e quindi se non è possibile per le caratteristiche dell'alunno con cui lavoriamo farlo lavorare in classe o in classe per tanto tempo magari possono bastare all'inizio anche pochi minuti strutturando un'attività possiamo riuscire a lavorare di più magari con lui costruendo un'attività che porti un piccolo gruppo magari anche due alunni all'inizio due o tre finalizzato organizzato pensato nel suo spazio d'accordo quindi cerchiamo sempre di costruire momenti che siano individuali finalizzati a un certo tipo di lavoro lavori in piccolo gruppo con altre finalità tra cui anche quella sociale e poi lavori con gruppi più numerosi progredendo sempre di più e la vita di classe è la sua appartenenza ok allora quindi l'insegnamento strutturato è quello che ci guida nel pensare che è necessario l'organizzazione dell'ambiente entro cui sviluppare le attività per lui appropriate che sono fondamentali supporti visivi per tutto quel discorso che facevamo prima la tensione verso i dettagli porta alla distrazione rispetto a quello che è l'obiettivo della nostra attività quindi la pulizia e l'organizzazione e la strutturazione degli spazi dell'attività stessa attraverso i supporti visivi del nostro linguaggio che utilizziamo nel dare la consegna pulendo ciò che è fondamentale per l'attività che gli vado a chiedere da quello che è superfluo in questo modo io riesco a capire l'ambiente che mi circonda capire che cosa mi viene chiesto e svolgere le attività in questo modo cala l'ansia ecco quindi vi stavo dicendo strutturare l'ambiente le attività giornaliere strutturate in schede visive ok e i compiti strutturati attraverso l'uso di supporti visivi allora torno un attimo indietro supporti visivi ad esempio ho la mia il mio banco dove svolgo le attività seduta i materiali poi vedremo degli esempi i materiali che compongono gli oggetti gli strumenti materiali che andrò ad utilizzare nelle mie attività sono posizionate alla mia sinistra davanti a me sul tavolo avrò la struttura visiva con tutte le carte simboliche delle attività che vado a fare sulla destra io disporrò man mano che gli ho utilizzati i materiali che ho già utilizzato e che non vado più a utilizzare quello è fatto fatta la prima attività costruisco qualcosa tolgo la tessera sposto il materiale quello è fatto pulizia chiarezza sinistra destra e via vediamo allora il primo ambiente che occorre predisporre è lo spazio dedicato e vediamo esempi di angolo morbido e angolo di lavoro allora abbiamo detto necessità di concentrarsi su quello che è importante mettere a fuoco togliendo tutti i distrattori se noi costruiamo una sua diciamo un suo angolo sia di lavoro che angolo morbido pieno di cartelloni pieno di quadri colorati pieno di visi con tante emozioni perché secondo noi è bello proporgli tante cose rendergli l'ambiente piacevole noi facciamo una cosa che ha delle motivazioni ideali bellissime però che non aiutano che creano confusione che creano distrazione d'accordo quindi soprattutto laddove ci sono anche tendenze a comportamenti oppositivi e di rifiuto allora la costruzione di un angolo morbido che come vedete può essere composto da materassi cuscini cose gradite può essere anche costruito ad esempio mettendo i materassi alle pareti se abbiamo la paura che il ragazzino o se abbiamo osservato che il bimbo ha dei comportamenti anche pericolosi verso di sé se sbatte la testa contro il muro per dire noi dobbiamo predisporre l'ambiente in modo da proteggerlo ok quindi non abbiamo paura a fare richiesta di materiali per adeguare l'ambiente alle sue reali necessità d'accordo e l'angolo morbido deve proprio costituire uno spazio a lui gradito dove potersi rilassare nell'ultima parte del lavoro di oggi vediamo proprio alcuni esempi di angolo della calma dove poter andare a fare decompressione a fare proprio il rilassamento anche dopo l'esplosione di una crisi comportamentale o meglio ancora dove una volta dati al bambino gli strumenti per chiedere un momento di pausa il bambino può andare per rilassarsi per vivere un momento di calma e dove può avere i suoi oggetti della calma questo li vediamo alla fine allora come abbiamo visto la definizione degli spazi sia in uno spazio fuori dalla classe appositamente dedicato a lui se è necessario ma anche nella classe è opportuno che ci sia uno spazio ben identificato come un suo spazio che lui conosca quindi lui deve sapere che nella sua classe c'è uno spazio proprio per lui che è quello lì lo deve frequentare ci deve andare i compagni devono sapere che quello spazio è lo spazio che giustamente il loro compagno ha nella loro classe d'accordo e devono essere guidati a capirlo a capirlo perché è costituito in quel modo i bambini come abbiamo visto fanno non solo fatica nell'attenzione cioè hanno dei tempi di attenzione molto brevi ma non riescono a stare seduti e fermi molto a lungo quindi dobbiamo sapere che ci può essere bisogno all'interno della mattina di stare un po' nello spazio in classe a fare delle attività mirate un po' nello spazio fuori poi andare a fare la passeggiata come abbiamo visto strutturando tutte le attività si passa da luogo a luogo l'importante è che sappiamo bene che appunto tutto ciò che è imprevisto può scatenare delle reazioni che possono essere anche dolorose d'accordo quindi nel predisporre gli spazi per lui teniamo conto di queste cose se ad esempio è un bambino che soffre molto i rumori per la sua ipersensibilità attenzione al fatto che magari la campanella sia posizionata proprio sopra la porta della sua classe no o se è una classe che dà sulla strada dove magari passano macchine camion cioè facciamo attenzione a tutti questi aspetti o se è una classe o un angolo suo uno spazio suo che alla mattina viene inondato dal sole nelle giornate di sole se è così procuriamoci delle temi cioè facciamo attenzione a tutti gli aspetti che abbiamo detto legati all'organizzazione dello spazio all'organizzazione anche di quello che lo protegge per prevenire eventuali reazioni oppositive o eventuali rifiuti ad attività che noi facciamo fatica a leggere perché lui magari non ha gli strumenti per dirci io non sopporto proprio questo sole che mi arriva addosso mi dà fastidio d'accordo ok quindi per far sì che il ragazzo si possa orientare e capire leggere l'ambiente con chiarezza sapendo dove va a fare qualcosa con chi ci va a fare dobbiamo pulire questo luogo dalle distrazioni visive d'accordo quindi come dicevo prima niente poster o quadri prendete sempre queste cose relativamente alle varie situazioni se voi sapete che il bambino che state seguendo non ha delle difficoltà a questo livello ok non procedete in questo senso però noi vi dobbiamo dire che possono fungere come distrattori dobbiamo esserne consapevoli d'accordo più l'ambiente è pulito più facile sarà che l'attenzione quelle energie che ci sono per quei tempi limitati che ci sono siano focalizzati sulle attività che noi proponiamo d'accordo poi tutto deve essere chiaramente comprensibile dal bambino se sistemiamo i materiali i materiali devono essere riposti ad esempio in scaffalature con scatole che li tengano ordinati classificati etichettati d'accordo che lui capisca che cosa è dentro i contenitori le scatole le varie posizioni l'ambiente deve parlare ok per essere comprensibile per lui ecco naturalmente va da sé che il lavorare necessariamente anche in modo individualizzato non vuole dire che questo spazio sia uno spazio a parte ma come dicevo prima sta a noi costruire delle piccole attività ma piccole attività può essere costruiamo non so se avete visto o se avete se ci avete già sentito raccontare ad esempio della quella mostra che abbiamo allestito quella installazione nell'atrio dell'ufficio scolastico a ognuno il suo castello in aria l'avete vista ne avete visto sul sito o qualcosa allora ve la racconto è una situazione in cui noi siamo intervenuti come CTS su richiesta della scuola perché c'era un alunno con disturbo dello spettro autistico e con disturbi comportamentali molto molto forti per cui tra l'altro cambiava comune di residenza cambiava ordine di grado scolastico tutto nuovo persone nuove insegnanti nuovi e la cosa si è resa ancora più dirompente come situazione per cui parlando con gli insegnanti con un artista che si chiama Marea abbiamo diciamo fatto questa proposta abbiamo lavorato per loro con loro sulle emozioni più forti che sono in gioco in queste situazioni cioè la paura e la rabbia e abbiamo costruito con loro ogni bambino ha realizzato un castello con materiali di recupero ciascuno poteva caratterizzare questo castello con quello che voleva con tutto ciò che rendeva l'idea del suo sogno del suo di cosa gli dava benessere di cosa lo faceva stare bene quindi dopo hanno scritto qualche frase partendo dallo spunto il mio castello in aria custodisce il sogno di e c'è chi ha parlato del futuro c'è chi ha parlato dei nonni c'è chi ha parlato dei propri animali cose che li facevano stare bene e dovete vedere come loro li avevano caratterizzati chi ha usato le cannucce chi ha usato i cotonfioc dipinti cioè hanno creato le grate il ponte elevatoio qualunque cosa e nel contempo abbiamo lavorato sui draghi perché ogni castello ha il suo drago e il drago naturalmente con la sua fiammata più o meno grande era la paura la rabbia quello che mi fa esplodere e loro hanno provato a riflettere ciascuno per sé a partire dallo stimolo il mio drago ruggisce quando e ciascuno si è un po' indagato dentro e ha caratterizzato il suo drago come voleva c'è chi ha fatto una fiammata quasi inesistente c'è chi ha fatto delle fiammate grandissime la fiammata di questo bimbo ovviamente era molto grande perché era un po' metafora di quello che succedeva e che una classe doveva essere accompagnata anche a capire ma la rabbia la paura sono dentro ciascuno di noi così come quello che dà benessere che fa stare bene è dentro a ciascuno di noi e allora questa è stata l'occasione per conoscere questo compagno nuovo a tutti nuovo agli insegnanti nuovo ai compagni e hanno pian piano scoperto poco verbale poco poco verbale hanno pian piano scoperto che caspita hanno riempito un castello intero di cose che gli piacevano di cose che lui cercava che lui voleva e anche di cose che lui proprio non sopportava quindi è stata una attività che ha coinvolto mesi di lavoro perché nel contempo la docente di lettere ha deciso di lavorare sulla fiaba e quindi hanno creato ciascun alunno una fiaba e quindi la fiaba fa parte della programmazione diciamo così della prima media però c'è stato dato più spazio e quindi nell'arco di mesi questi ragazzini a coppia hanno lavorato con il loro compagno a volte in classe è stato in classe a volte quando siamo andati anche noi per pochi minuti ma quei pochi minuti in quella situazione così all'inizio di un percorso era già tanto ok erano già tanto e i compagni hanno lavorato a coppia per fare cosa per manualmente ritagliare questi materiali di riciclo che avevano scelto e costruire il drago insieme al loro compagno quindi l'attività era finalizzata ha dato vita a una installazione enorme dove ciascuno ci ha messo del suo e ha collaborato con l'altro e a livello proprio tangibile loro hanno visto che si poteva fare qualcosa costruire lavorare per tempi brevi adesso in questo anno hanno altri progetti ok però per dire ciascuno di noi nella nostra creatività tipica di noi docenti ci possiamo inventare delle attività a misura delle nostre situazioni che possano permettere lavori in spazi precisi con tempi precisi e modalità precise che abbiano degli obiettivi lo vedremo anche quando parliamo delle stereotipie il fatto di capire bene per che cosa lavoriamo e regolare il nostro operato di conseguenza ok quindi momenti significativi con i compagni sono fondamentali dobbiamo cercare di costruire qualcosa che vada in questo senso ok gli vari spazi ecco che siano contrassegnati d'accordo che siano che rendano l'ambiente leggibile allora qualche diciamo indicazione per impostare il rapporto con questi bambini con i bambini che hanno le caratteristiche tendenzialmente in gran parte comuni poi ciascuno con la sua specificità qualche indicazione che è basilare il linguaggio concreto Lorenza vi ha già fatto tutto l'esempio delle metafore che noi normalmente utilizziamo tutto il linguaggio figurato per noi è spontaneo ci viene ecco pulire il linguaggio da parole che sono di troppo nel dare la consegna e che possono essere forvianti perché come diceva Lorenza magari se ne comprende solo una parte se io uso dieci parole quando ne potrei usare tre già parto rendendo molto più comprensibile il comprendere quello che sto dicendo come consegna e poi manteniamoci su un linguaggio concreto ok l'ironia vi faccio un esempio perché anche questa può essere un'arma anche molto importante l'ironia per stemperare delle situazioni in caso di comportamenti insomma oppositivi per non dare troppo peso no quando parleremo in una occasione di comportamenti di problema l'ironia può essere un'arma ma se i bambini non la capiscono io devo fare attenzione a non usarla o anche tutto quello che riguarda la comunicazione come no la prossemica il tono noi usiamo tante cose a fin di bene però veniamo fraintesi vi faccio questo esempio un altro mio ex alunno un altro alunno non quello di cui vi parlavo prima che adesso ha finito già il percorso delle superiori nell'anno della terza riusciva a fare dei piccoli lavori di gruppo allora abbiamo fatto un lavoro di gruppo in classe lui aveva l'incarico dal suo gruppo di consegnare il foglio con l'esito del lavoro del suo gruppo all'insegnante insegnante bravissimo buonissimo che gli voleva un sacco di bene e lo voleva gratificare voleva avere insomma uno scambio comunicativo con lui questo ragazzo consegna il lavoro e l'insegnante gli dice bene Rossi dico un cognome così lei ha partecipato al lavoro allora già usa lei che complica la vita e poi è questo ragazzo però che aveva messo insieme un bagaglio lessicale anche di linguaggio non indifferente gli dice può dirlo forte prof cosa fa il prof lo ha urlato Rossi lei ha collaborato al lavoro allora il mio alunno si è irrigidito ha cominciato a tremare e a piangere e non c'era verso di consolarlo né da parte mia che lo conoscevo da tre anni né da parte dei compagni perché lo shock di questa reazione così inaspettata da un professore che era ben voluto con cui c'era un rapporto ottimo però per lui è stato un imprevisto e come sapete la loro rigidità fa sì che queste situazioni di imprevisto e di tono di voce così siano dirompenti per cui c'è stato tutto un lavoro di spiegazione del perché aveva preso il significato letterale l'aveva reso così insomma forte ma io vi posso giurare che tuttora quando lo vedo lui rievoca sempre questo episodio e mi chiede ma perché il prof ha fatto così ma perché Erika mi diceva che non dovevo piangere dovevo stare tranquillo ma perché Simone sto dicendo nomi di fantasia mi diceva che dovevo stare tranquillo che lui scherzava che lui l'ha fatto per farmi uno scherzo ma perché e io devo cercare di usare i termini che ho usato nella prima spiegazione d'accordo ma lui ha capito la situazione lui adesso ha colto le intenzioni del prof ha accettato le spiegazioni sull'episodio che gli sono state date però ancora chiede conferma della lettura di quella situazione lì ok questo per dire che noi anche con tutta la buona volontà del mondo possiamo incappare in situazioni problematiche che poi ci portiamo dietro ok e il fatto che chiedano spiegazioni ancora e ancora su le stesse situazioni fa capo a quella rigidità a quella mancanza di comprensione dei fenomeni sociali che è caratteristica ok del loro disturbo allora vado avanti terzo punto l'usare i supporti visivi per la comunicazione ogni volta che sia possibile perché perché favorisce il processamento delle informazioni dei messaggi che noi stiamo dando loro d'accordo il che vuol dire che possiamo usare fotografie disegni oggetti e dopo le vediamo ecco e lavoreremo sul grado di astrazione ok per le singole cose ok ecco un'altra cosa non dobbiamo avere fretta cioè dobbiamo saper aspettare i loro tempi di risposta d'accordo perché se noi interveniamo nuovamente ponendo delle altre richieste blocchiamo il loro processo in atto d'accordo quindi li costringiamo a ricominciare da capo tendenzialmente quindi dobbiamo saper aspettare le loro risposte e del contatto oculare vi ha già parlato Lorenza ecco l'importante è che non è detto cioè non è che perché non ci guardano non stanno seguendo quello che noi stiamo dicendo loro d'accordo ma anzi al contrario loro fanno fatica se ci guardano e ci ascoltano contemporaneamente o l'uno o l'altro tendenzialmente per le loro caratteristiche di funzionamento quindi non ci preoccupiamo verifichiamo in altra maniera se ci seguono nel merito ok e poi il saper gratificare d'accordo perché il loro sforzo è grande quindi il saper gratificare a vari livelli rende il vivere la scuola e il seguirci nelle proposte di apprendimento più facile più gradevole ci seguiranno più volentieri ok e quando noi abbiamo voglia di lavorare con loro e portarli a raggiungere degli obiettivi dei traguardi noi magari ne pensiamo dieci ok di cose da fare con loro e tendiamo a proporgliene dieci insieme allora facciamo una scala di priorità e lavoriamo innanzitutto su quello che è prioritario quando quello sarà acquisito allora andiamo su altri obiettivi ok e poi c'è tutto un discorso da fare per il discorso anche degli obiettivi della socialità del vivere sociale non solo degli apprendimenti to cure dei contenuti disciplinari ok però qua parlo di livelli più alti il lavorare in team tutto quello che è ci vuole coerenza educativa e coerenza didattica d'accordo quindi tutto quello che decidiamo di proporre utilizzare con l'alunno va condiviso e portato avanti in maniera comune questo è fondamentale perché già disorientiamo i bambini normotipici se diamo come docenti input diversi quando lavoriamo con una stessa classe correggetemi se sbaglio ma ciascuno di noi ha vissuto queste situazioni a maggior ragione per un bambino che per le sue caratteristiche è più disorientato di altri se le figure che lavorano con lui gli danno input diversi hanno modalità diverse modalità di gestione delle attività diverse lo confondiamo d'accordo non prenderla sul personale l'abbiamo già detto non ce l'hanno con noi però funzionano in una maniera diversa noi facciamo fatica a leggere loro loro fanno ancora più fatica a leggere noi ecco fare attenzione alla strutturazione sensoriale dell'ambiente e realizzare i necessari adattamenti qui una cosa fondamentale mi sento di dire che è alla base del discorso dell'ipersensibilità o iposensibilità sensoriale cioè noi tendiamo sempre nelle situazioni a porre noi stessi come misura e metro di quello che è accettabile con un po' di fatica ma però accettabile e di quello che invece è eccessivo l'etichetta mi fa prurito mi fa prurito divento rosso il brufolino che gratta contro la felpa troppo ruvida no non lo sopporto e vabbè dai cosa vuoi che sia sopporta un po' perché per noi è una cosa da poco noi dobbiamo metterci nell'ottica che la nostra percezione non è la loro accogliere quello che loro ci dicono il volume che diceva prima Lorenza per noi è 5 per loro è 15 è così finché noi non ci poniamo in questa posizione rischiamo di incagliarci invece che di risolvere a priori alcune situazioni d'accordo a livello di rumori a livello di tatto ok e di porci in un loop che ci blocca sul resto del lavoro che noi vorremmo portare avanti d'accordo va bene anche qui mi vengono in mente altri episodi ma devo andare avanti ok ecco ecco e tu eri stata così brava io no la coerenza va bene l'abbiamo visto prima no in tutto nel modo di lavorare nella strutturazione dell'ambiente nelle routine nei compiti nelle ricompense nel mantenere gli impegni nel non cedere ai capricci ok queste ce lo siamo detti no quali sono le difficoltà riassumendole eh l'adattamento alle regole se tu fai fatica ad accettare di adattarti le situazioni che non sono chiare gli imprevisti ha maggior ragione per te sono una cosa che non puoi gestire eh se non comprendi la comunicazione non verbale non puoi comprendere l'interazione scherzosa positiva quello che vi dicevo prima ok e se il tuo funzionamento è prevalentemente schematico farai fatica a giocare al far finta no all'infanzia che si gioca no a andiamo tutti a letto prendiamo un telo ci mettiamo sotto costruiamo la tendina facciamo quelli sono giochi in cui eh fanno fatica questi bimbi a starci allora noi dobbiamo sapere che comunque no quali sono invece le difficoltà nell'interazione il non vedere che si divertono se si divertono no facciamo fatica a coglierlo però se osserviamo bene ci sono altri segnali diversi da quelli a cui noi siamo abituati che ce lo dicono quando conosciamo poi gli alunni no quando li abbiamo osservati il rendere chiara la nostra intenzione perché se no possiamo suscitare eh rabbia per la non comprensione e non risponde in modo adeguato allora guardate brevemente questo schema no che riassume il tipo di gioco ad esempio nell'interazione diversi fra gli alunni con disturbo dello spettro e alunni normotipici no perché dobbiamo sapere queste cose non ve le sto a leggere tutte tanto le potete guardare perché nella nostra costruzione dei giochi e delle attività noi dobbiamo sapere che se proponiamo solo giochi eh del far finta giochi di squadra giochi che ci inventiamo sul momento e che non annunciamo per cui non prepariamo i ragazzi eccetera loro non ci potranno mai stare bene dentro a delle situazioni così e se noi vogliamo creare situazioni di benessere creare situazioni di apprendimento efficace dobbiamo invece tenere presente anche le loro caratteristiche e per tenere presente loro e il resto della classe dovremo tenere eh costruire qualcosa che vada bene agli uni e agli altri d'accordo questo soprattutto per i più piccolini ok poi comunque le slide vi arrivano e quindi suggerimenti alla luce di tutto questo organizzare giochi strutturati in piccolo gruppo eh collaborare con i curanti con chi? con neuropsichiatra logopedista con chi segue gli alunni con chi fa parte del gruppo operativo oltre che con la famiglia naturalmente eh per avere strategie comuni perché non possiamo essere generatori di confusione noi dobbiamo costruire sistemi coerenti e chiari per loro e poi prendete il tempo per insegnare come partecipare a uno scambio comunicativo e ovviamente motivare i compagni a stare nelle attività responsabilizzarli anche a seconda del nel bene eh senza dare pesi che non sono i loro eh però lo dico nel senso di far capire quanto sono importanti loro ok nella costruzione di attività comuni per fare imparare loro sono i primi che sono entusiasti quando vedono che le cose funzionano ok che ci sono degli apprendimenti ok va bene questo passiamo oltre va bene questa è la mia sì prego vai torni giù sì 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 ok torni giù bene una mezz'ora sì 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 le slide vi verranno date sì sì ancora 35 minuti 45 minuti massimo facciamo un attimo di pausa sì alle 5 5 5 10 5 ecco alle 5 c'è la pausa adesso cercherò di stringere mi ha rubato un po' di minuti però da buona amica allora per comunicare bisogna essere almeno in due perché abbiamo scritto tutte queste ecco altri due punti no di riflessione perché lo scriviamo con quello che ha appena detto Emanuela adesso e lo strumento che media la comunicazione deve essere accessibile e comprensibile ad entrambi no fare attenzione all'altro per riuscire ad entrare in una relazione significativa con l'altra persona occorre vedere le cose anche dal suo punto di vista tramite le strategie visive possono essere realizzati principi educativi ritenuti indispensabili per adattare l'ambiente ai bisogni dei bambini con disturbo dello spettro autistico non solo dei bambini anche dei ragazzi e degli adulti chiarificazione dello spazio strutturazione del tempo allora l'utilizzo dei supporti visivi lì voi avete un esempio e sotto c'è scritto che le strategie visive vanno utilizzate in base alle caratteristiche e ai bisogni dell'allunno a volte le formazioni mi dicono ma Lorenza qual è l'agenda visiva più funzionale non è che ce n'è una più funzionale dell'altra dipende dalle caratteristiche voi conoscete la vostra meraviglia voi sapete cosa quanti anni ha cosa riesce l'immagine dopo vedremo come possiamo possiamo andare avanti e vediamo il perché allora le strategie visive per l'organizzazione dell'ambiente dall'infanzia dalle costruzioni senza dire la marca ok dall'infanzia alle partite di basket ai palloni che vado a recuperare in palestra oppure quel foglio quell'adesivo quell'etichetta mi dice che in quell'aula che io sento dei rumori forti bim boom bam stanno giocando perché è una palestra e io ci passo vicino ma se fuori non viene per me non mi viene detto che lì c'è una palestra io passo vicino a una porta dove sento dei rumori che mi danno un gran fastidio e non so cosa succede ecco e allora perché sono importanti per rispondere ai bisogni di prevedibilità degli alunni e significa capire meglio la loro rigidità e metterli in condizioni di cogliere l'ambiente ed avere un comportamento più rilassato strutturare l'ambiente con le etichette allora qui le maestre dell'infanzia sono dei draghissimi non dei draghi perché lì si etichetta tutto tutti conoscono tutto ed è una cosa bellissima provate a chiedermi a essere superiore quante prime volte che abbiamo etichettato hanno detto ma c'è cosa stai facendo ecco però perché allora più diventiamo più cresce nell'età il nostro allunno forse ne ha meno bisogno però se c'è bisogno non abbiamo dobbiamo aver paura di mettere un'etichetta alla scuola media o alla scuola superiore se serve ecco perché perché proviamo a pensare a questo immaginatevi tutti adesso di entrare alla stazione centrale dei treni di Bologna e noi sviluppo tipico non avere più nessun tipo di indicazione dai cartelloni non sappiamo quando parte il treno a che ora scendiamo sotto il sottopassaggio non abbiamo più i numeri arabi che ci dicono binario 1 2 3 4 come viviamo che dobbiamo partire andare a Roma dalla nostra mamma dobbiamo se noi usciti da qui perdiamo l'agenda ecco avete già risposto domani non sappiamo cosa dobbiamo fare ma sul serio non ci ricordiamo dove cosa abbiamo messo in fila giusto altro che ansia ci viene se perdiamo la nostra agenda ok per loro adesso scusate posso posso sembrare un po' semplice nella è perché lavorando sul sostegno insomma si lavora nel concreto e così però a volte si ricordano meglio gli esempi più che toccano anche noi rispetto a cose più ecco che possono risultare più elaborate ma non lo sono perché è quel bimbo con i punti interrogativi e con la confusione in testa poi dopo è sereno perché gli viene detto che lì quando vedo tutti che sono in fila cosa succede perché sono in fila davanti a quella porta perché lì si va in mensa lì c'è la mensa io sono entrato in una scuola bellissima in una scuola di Bologna super elegance una scuola superiore caspiterina io vengo dalla provincia in una scuola proprio che c'è lì non c'è un paragone ecco e però camminando c'erano tutte le aule c'è scritto prima A prima B prima C prima E prima D cosa so io Lorenza con disturbo se lì c'è un laboratorio di informatica andiamo al laboratorio di informatica non c'è una foto che mi dice che lì dentro c'è il laboratorio non c'è una foto che lì c'è la palestra non c'è una foto che mi dice allora gli ambienti come diceva prima Emanuela devono parlare parlare perché se no io non so cosa mi succede io non ci vado con sviluppo tipico in una porta che non so cosa c'è di là ma non ci vado non sono curiosa perché se lì c'è un qualcosa di pericoloso io non vado a curiosare però se lì vedo che c'è l'insegna dell'edicola se vedo che c'è l'insegna di un forno se vedo c'è le nostre l'immagine a noi è il nostro vivere quotidiano se vado dalla macchinetta a prendere un caffè e non ho nessun tipo di indicazione visiva io il caffè non lo prendo posso prendere una camomilla posso prendere un orzo posso prendere un cioccolato ma non il caffè ecco organizzazione degli spazi ha parlato prima Emanuela l'angolo morbido questo per farvi vedere la concretezza questo è questo materiale che vi faccio vedere a parte che vi facciamo vedere a parte questo che viene dall'autismo Sardegna Onlus è materiale che abbiamo documentato quando andiamo nelle scuole è materiale fanno dei lavori da urlo fate dei lavori da urlo strepitosamente belli si fanno delle cose allora là una ragazzina delle scuole medie il suo angolo morbido lei aveva quel materassino con sopra la sagoma del corpo vedete ed era il materassino che usava la primaria dopo hanno aggiunto un pezzo di materassino perché lei è diventata grande e vedendo nel materassino la sagoma lei quando arrivava dentro in questo posto sapeva che lì si poteva sdraiare era importante per lei altrimenti non capiva dove poteva sdraiarsi il materassino con la sagoma le faceva vedere che lì poteva mettersi sdraiata e adesso lei lo sa hanno aggiunto un altro materassino ma lei si sdrai ugualmente sopra ci sono delle agende visive che noi vedremo dopo nello specifico sono esempi che dopo vediamo meglio questo è l'esempio di cui parlava prima Emanuela sulla sinistra scusate vi giro le spalle sulla sinistra ho i giochi sul mio tavolo faccio il gioco lì cestino lavoro finito ho l'idea di quello che accade concretamente noi ci aiutano a ricordare a comunicare a scegliere quello che fanno le strategie visive per noi tutti i giorni se andiamo fuori a prendere l'autobus e nella tabella non c'è più il numero è come prima in stazione allora servono hanno bisogno sono poi avete modo di leggerlo con calma sono le cose ecco che abbiamo detto finora però così abbiamo voluto risottolineare hanno bisogno di appoggi supporti le nostre meraviglie che le rassicurano durante le loro attività attività anche didattiche lavorare con i ragazzi ad esempio io ho avuto allunni che abbiamo fatto storie abbiamo fatto diritto abbiamo fatto geografie e scienze utilizzando le immagini i contenuti però le immagini e l'esposizione la tre virgolette l'interrogazione dell'argomento avveniva attraverso le immagini quello che diceva prima Emanuela suddividere i compiti i temi di italiano quando io chiedevo facciamo un tema c'è il compito la verifica di italiano ok descrizione il mio papà il tema finiva il mio papà si chiama Lorenzo finito il tema se invece accanto c'è una linea guida allora come si chiama che lavoro fa dove abita quali sono le cose che gli piacciono quali sono c'è la pianificazione tra virgolette di un tema il tema si faceva si è sempre fatto ecco allora scusate torno indietro era per collegarmi poi è tutto lo stesso discorso questo le schede che cosa fanno le schede visive informano lo studente sulle attività giornaliere regolari le attività giornaliere straordinarie perché bisogna dire avvisare dove è possibile perché anche noi succedono cose a scuola imprevisti che ecco non è che noi possiamo prevedere sempre tutto però tutto quello che si può prevedere lo dobbiamo mettere in campo attività giornaliere straordinarie successione degli eventi ecco quello ne ha già parlato prima Emanuela gli strumenti per dare l'informazione gli ausili visivi come i calendari che vedremo sotto aiutano gli alunni a richiamare e mantenere l'attenzione offre l'informazione in forma che permette una facile e rapida interpretazione rende chiaro il messaggio verbale fornisce una soluzione concreta per insegnare concetti come tempo sequenza effetto permette di accettare i cambiamenti perché io vedo cosa succede adesso vediamo l'esempio ah scusate prima degli esempi decidere bene rispetto alle caratteristiche e ai bisogni della persona come realizzare la scheda ho detto prima non c'è una scheda visiva più bella e più utile in assoluto allora devo vedere il sistema di rappresentazione ma lo vedremo ne torneremo quando vi farò vedere ecco le schede come dovrà essere indicata la scansione del tempo la dimensione la forma dove la mettiamo non è così che io oggi cosa facciamo vado a fare una scheda in fretta e furia no devo pensare bene perché questa dà la possibilità alla mia meraviglia di sentirsi a proprio agio di capire le parla e racconta lui cosa succede a lei come Lorenza visto che stiamo sempre parlando di me cosa mi succede durante la mattina perché io arrivo a scuola vedo che c'è la foto di Angela giusto Angela vedo che c'è la foto di Angela le prime due ore poi vedo la foto di Marco vedo la foto di Nunzio e so che poi mi succederà questo e la mia ansia cala perché so e vedo cosa mi deve accadere questo è un esempio in una scuola e sono stati messi tolti i volti mi dispiace comunque ogni mattina insieme al compagno di classe posiziona sopra i nomi le foto dei bambini presenti e sul tronco mettevano le foto degli educatori ecco questo è il passaggio da un'attività all'altra quello lì è un velcro il quadrettino blu si attacca e io so che vado cambio aula o vado in mensa ecco allora lì abbiamo diverse tipologie vedete che la prima sulla vostra sinistra c'è una palla una musicassetta un altro giochino poi cestino finito perché è un'agenda visiva fatta con gli oggetti veri reali allora qui sarebbe un discorso lungo però adesso in breve perché perché quel bambino era piccolino aveva bisogno di conoscere cioè capiva la successione degli eventi proposti attraverso gli strumenti concreti così anche il piatto lo spazzolino da denti e la videocassetta perché non aveva ancora non era ancora arrivato se io avessi messo la fotografia di non io la docente avessi messo la fotografia di un piatto o la fotografia di uno spazzolino non sarebbe non sarebbe non avrebbe avuto lo stesso significato per quel bimbetto quella bimbetta che guardava che utilizzava quella agenda mentre questa qua sulla destra è sempre realizzata da una maestra da delle maestre che qui siamo in una scuola qui eravamo in una scuola dell'infanzia classe quarta quinta e avevano scelto loro perché la loro meraviglia lavorava in questo modo un cerchio e intanto imparava anche il discorso dell'orologio del tempo oltre che far vedere le attività ma questa non è quella che va bene è un esempio mi raccomando ecco questa era quella dove c'era il materassino questo è un calendario allora l'agenda erano quelle di prima le agende visive questi sono i calendari e dove col supporto di immagini questa questa bimbetta vedeva che lunedì andava a fare queste cose che andava a cavallo il mercoledì faceva queste attività poi andava adesso qui noi conosciamo spazi aperto perché siamo di Bologna voi sapete che è un centro importante e il sabato aveva quel tipo di attività ecco i calendari importante possono essere usati dagli alunni con uno spettro di abilità diversificato vedremo di diversi tipi non è necessario di essere capace di leggere o di parlare e scrivere per usare questo strumento quella ragazzina del calendario col foto del cavallo non sapeva né leggere né scrivere non è però c'era qualcuno che con lei gli diceva oggi è lunedì vedi poi andiamo a fare l'attività poi questo oggi è martedì non è neppure necessario se per elencare i giorni della settimana o i mesi dell'anno per farne un valido uso allora non pensiamo che si possono utilizzare i calendari solo con con allunni che sappiano leggere e scrivere possiamo utilizzarli anche in altro a cosa serve un calendario mi da tante informazioni dopo bisognerebbe dedicare mezz'ora per ogni punto però avrete modo di mi dare informazioni della scansione del tempo di quello che avviene e guardando andiamo le successive così vediamo andiamo ecco l'altro aspetto poi dopo ci saranno dei calendari degli altri esempi questa è una tabella delle scelte in diverse situazioni e attività la possibilità di scelta ricorda agli alunni che non esistono solo i giochi che a lui piacciono perché se io ai miei alunni do la possibilità di scegliere i giochi poco per volta si accorge che ce ne sono altri rispetto a quelli che gli piacciono a lui di più ecco forse ci viene meno scontato dare la possibilità di offrire la scelta perché se io lo faccio solo attraverso il concreto nel senso che giochiamo e tutti i bimbi vanno a prendere i giochi lui prenderà sempre solo quello che gli piace di più però se prima di dire potete andare a prendere il gioco preferito diamo a tutti i bimbi una scheda e ognuno dei bimbi sceglie il gioco poco per volta io ho creato un'attività che darà anche al mio alunno la possibilità di scegliere e di non utilizzare sempre lo stesso il fatto di dire anche abituare l'alunno al no perché abbiamo i cubi abbiamo i lego abbiamo ho fatto un esempio sciocco però l'orso è finito quando c'è quel segnale non possiamo sempre avere tutto quando c'è quel segnale vuol dire che non ce n'è più mi vado a vedere e il cestino è vuoto la scheda per i diversi compiti di aiuto maestra anche i nostri alunni possono fare tante cose ma anche portare un foglio non è importante portare il cabaret con non so che cosa sopra di difficile di equilibrio per la motricità fine o fare semplici compiti noi allora li mettiamo in una scheda e tutti i bimbi selgono l'aiuto che vogliono dare e certo che noi al nostro bimbino diamo quello che sappiamo che sa fare che può fare anche spostare un tappo ecco però serve chi sposta al tappo sequenza sempre quella ragazzina delle cose quel giorno fotografate mi sono piaciute le ho riportate e lei sapeva che è immensa cosa doveva fare apparecchiare poi arrivava il cibo poi mangiava poi sgomberava punto un po' per volta quattro foto non cento non allora dobbiamo alzarci fare questo pim pum pam che poi non so se ricordo bene quello che mi viene detto e così l'immagine so cosa devo fare in bagno una specie di quello che avete visto prima però messo in un'altra modalità vedete il bagno il water la carta igienica lavarsi le mani li doveva ancora asciugarsi quando si asciuga la sposta la sposta perché perché concretamente concretamente vede che ha fatto la cosa ecco il trucco il concreto vestirsi deve ancora mettersi le scarpe allora però quello è un lavoro che ha finito la sequenza l'organizzazione la pianificazione raggiungere l'obiettivo attraverso il supporto visivo quello che si diceva prima ricordate scusate vado ecco ci sono alcuni esempi adesso qui corriamo perché volevo volevamo dirvi alcune cose sulle storie sociali e qui se voi andate sul sito dell'ufficio scolastico e andate nella sezione BES trovate tantissimo materiale che riguarda tutti i bisogni educativi speciali che riguarda c'è di tutto e di più e ci sono tanti esempi di materiale strutturato della dottoressa Roda di tutte le le formazioni che ha fatto con esempi ecco impariamo ad utilizzare lei scusate diceva ricordo una sua frase lei diceva queste cose sono importanti per i genitori per gli insegnanti e per i ragazzi abbiamo tanto materiale gratuito a disposizione che può essere utile allora questi vai pure avanti ma noi la scusa ecco questi sono esempi realizzati sempre dalle vai pure scorri dalle maestre perché concretamente il bambino doveva vestirsi ma qui ecco era carino avanti ecco questa dove sono i denti lì ma portare dal dentista un bambino o un ragazzo con disturbo dello spettro non è una cosa così sapete che in certi casi intervengono con l'anestesia ecco però se io non so dove devo andare cosa vado a vedere è come l'autonomia del soffiarsi il naso non c'è cosa più difficile da insegnare a un bambino soffiarsi il naso perché è difficile renderla concreta perché mentre dove sono i denti dove è l'orecchio cosa devo fare glielo posso far vedere con dei disegni lui lo tocca lo vediamo soffiarsi il naso non è così facile per dire che può sembrare una banalità ma non lo è una banalità ecco questi sono lavori se non sono belli questi concretamente vedere scorri pure ecco si apre l'armadio questo per imparare dove mettere i propri vestiti che poi tutti questi aspetti poi hanno l'obiettivo col tempo le cose di essere generalizzate ok vai pure avanti ancora ecco perché voglio vorremmo dedicare ecco dieci minuti alle storie sociali pensavamo di offrirvi come strumento oltre all'insegnamento strutturato il supporto visivo anche l'utilizzo delle storie sociali che vai pure avanti ecco le storie sociali vanno bene dai bambini piccoli ai ragazzi grandi si possono utilizzare nascono specificatamente per persone con disturbo dello spettro autista che nascono negli anni 90 aiutano a comprendere i piccoli ritagli del mondo sociale la storia sociale mostra informazioni chiare rispetto a una determinazione sociale il perché sta accadendo e come mi devo comportare non è indispensabile saper leggere io posso preparare delle storie sociali per i miei bambini piccoli dell'infanzia o per un ragazzo grande che non ha acquisito l'abilità di leggere perché gliela racconto e gliela faccio vedere ok raccontano che cosa sta succedendo chi sta facendo cosa perché quali risposte sociali come deve comportarsi l'allunno nelle storie sociali non devono non vengono mai usate gli imperativi devi no ma vengono suggeriti comportamenti per favorire l'apprendimento il devi quante volte anche con sviluppo tipico abbiamo detto ai nostri ragazzi devi stare attento devi entrare in orario devi 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 non è che si risolve dicendolo è un altro l'aspetto da affrontare le storie sociali si realizzano attraverso i simboli in CA con la comunicazione aumentativa alternativa possono essere utilizzate le fotografie dell'allunno ad esempio noi abbiamo delle ci sono delle delle applicazioni per i tablet che dove costruiscono dei libri digitali con attraverso le foto le immagini insomma riprese video possono esserci le cose che voi ritenete utili opportune al vostro allunno però l'importante che che oltre che sentire posso anche vedere chiaro le storie sociali aiutano concretamente rispetto alla difficoltà di immaginazione cosa avviene dopo e poi parlano con un linguaggio semplice se io parlo a una persona con un linguaggio semplice e gli racconto un breve dopo ce ne sono lì per fare un esempio poi ci sono anche adesso abbiamo sintetizzato un po' perché il tempo era quello era così però abbiamo voluto lo stesso offrirvelo come indicazione perché ci sembrava un buon strumento ecco e quali sono diminuisce allora scusate le difficoltà di comprensione del linguaggio parlato diminuiscono quando il linguaggio è semplice giusto e in forma scritta è iconica poter risentire rivedere più volte aiuta non una in velocità quando fretta fate la cartella andiamo fuori ci mettiamo la berretta e usciamo no quando io incontro gli altri tutte le mattine posso salutare è bello salutare poi vediamo degli esempi allora gli obiettivi della storia sociale sono diminuire un comportamento ripetitivo gestire dei comportamenti che possono essere pericolosi perché io vedo e so cosa succede e non l'ansia si riduce educare al rispetto sviluppare capacità di aiuto aiuto le storie sociali chiariscono il perché cosa succede esempio di un bambinetto piccolo di una storia sociale sedersi davanti in macchina mi piace sedermi davanti in macchina a Rachele piace sedersi davanti in macchina se Rachele si siede sempre davanti in macchina io penserò non è giusto questi sono i due vogliono andare davanti tutti e due se io mi siedo sempre davanti in macchina Rachele penserà non è giusto cercherò di fare a turno con Rachele per sedermi davanti in macchina voi dite Lorenzo io non sono venuto qui da stamattina che sono fuori a lavorare per farmi vedere sto seduto in macchina che due ecco però andiamo a cogliere il senso della proposta è con un linguaggio semplice io do dei chiarimenti a una meraviglia che se non glieli do e non glielo racconto e non li vede non fa fatica è in difficoltà un ragazzo più grande quando torno le mie cose saranno ancora lì la gente porta le sue cose a scuola tutti i giorni in particolare nei giorni della gita scolastica a volte si devono lasciare delle cose in classe o negli spogliatoi tutti stanno più tranquilli se sanno che nessuno toccherà le loro borse o prenderà le loro cose quando le lasciano incustodite le persone sono felici se le loro cose sono ancora lì quando ritornano a prenderle è importante cercare di non toccare o prendere le cose degli altri è molto bello sentire di potersi fidare degli altri Massimiliano aveva 14 anni uno spiccato interesse per i piccoli oggetti per le cose degli altri sembrava non padroneggiare pienamente il concetto di proprietà personale e regalava tutte le sue cose contemporaneamente prendeva qualunque cosa fosse lasciata in giro appropriandosi regolarmente delle cose degli altri e questo non lo aiutava nella relazione e scusate torno indietro un attimo dopo vedremo come si costruisce quali sono i passaggi perché c'è una tecnica di costruzione ecco e vi ricordate il discorso della dell'attenzione verso i dettagli e carenza nel cogliere in generale la situazione la storia sociale viene presentata in una situazione sociale in modo chiaro e accessibile non bisogna essere degli scrittori non ci sono virtuosismi letterari ma informazioni essenziali in quanto l'alunno deve cogliere la situazione che si presenta ecco scrivere una storia sociale tipologie di frasi frasi descrittive illustrano al bambino quello che succede nella situazione sociale offrono informazioni dettagliate descrivono attraverso i fatti tutti i giorni quando suonano una campanella succede che i miei compagni si mettono tutti in fila tutti alle superiori quando suona la campanella tanti compagni di scuola vanno verso la macchinetta si forma una fila lunga lunga lui vede questo e se io glielo racconto lo vede frasi soggettivi permettono al bambino di conoscere quello che le persone pensano e provano la maestra contenta quando tutti stanno in fila e non si spingono i bidelli sono contenti quando la macchinetta i ragazzi rispettano il turno anche i prof sono contenti offrono la possibilità al bambino di vedere la motivazione degli altri capire il perché le persone si comportano così le frasi direttive indicano al bambino quale è il comportamento più adegato cercherò di stare anch'io fermo quando sono in fila con i miei compagni cercherò vi ricordate non devi stare fermo perché perché so che la maestra è contenta quando i miei compagni siamo tutti in fila i miei compagni sono contenti se non ci spingiamo e ci facciamo male ecco per dire avevo fatto avevamo preparato un esempio allora una storia sociale perché i bambini della mia scuola usano le matite era per fare un esempio delle frasi direttiva che deve spiegare che cosa succede uso le matite per colorare descrive a cosa servono le matite uso la matita per disegnare e scrivere alcuni scrittori usano la matita per scrivere una storia direttive spiegano perché si usa la matita la mia insegnante è contenta quando uso la mia matita per scrivere disegnare e colorare soggettiva fa vedere all'alunno cosa prova qual è il sentimento l'emozione che prova la maestra la mia scusate cercherò di appoggiare la mia matita sul tavolo quando non sto scrivendo disegnando o colorando questa era stata costruita perché questo bambino di 5 anni spaventava i suoi compagni e mangiava le matite come possono mangiare come possono prendere su come ecco poi sappiamo cosa può succedere no con il materiale anche questo dopo lo rileggete avrete moto di rileggerlo andiamo avanti l'obiettivo mamma mia tre minuti l'obiettivo delle storie sociali è rendere visibile l'alunno una situazione e non danno ordini ma l'atteggiamento corretto e linguaggio semplice ogni pagina deve contenere un numero esiguo di frasi si aggiunge l'immagine per accrescere l'interesse la proposta visiva assuma un ruolo fondamentale e abbiamo detto perché come presentarla come si presenta una storia sociale partire dai punti di forza dal bimbo se sa leggere oppure se gli piace ascoltare vediamo noi a lui cosa preferisce lo sappiamo noi se la lettura con l'adulto o a piccolo gruppo o con la classe nella lettura 2 bisogna stare attenti al contatto fisico perché se io vado lì e lui cioè devo stare un po' più spostata se sappiamo che il contatto fisico lui dà fastidio o lei ecco sul banco non devono essere presenti distrattori come diceva prima Emanuela nel mio banco quando io faccio un'attività se a lui piacciono le penne piacciono le gomme piacciono i colori io quelli li metto sotto al banco se no lui non mi sta attento so già in partenza che non mi sta attento è bene leggerla prima della situazione sociale per cui è stata scritta prima quel bimbo quando mangiava le matite le sue maestre prima di dire prendiamo fuori tutti i colori usiamo i colori leggevano la storia sociale è bene leggerla sia in casa che a scuola voi sapete che quando Emanuela prima parlava di coerenza se io insegno una cosa lavoro con un ragazzo per insegnargli un'abilità un'autonomia una conoscenza un qualsiasi cosa è bene che si lavori lo stesso modo anche a casa perché se io per andare in edicola a fare l'attività era importante che l'alunno imparasse a camminare nella parte interna del marciapiede perché poteva acquisire certo sulla parte esterna no perché è pericoloso però questo voleva dire che anche i suoi genitori tutte le volte che passeggiavano ricordavano a lui mi raccomando dobbiamo stare nella parte interna scusa vado avanti se no dopo dico anche io delle altre cose ecco questa è un'altra storia sociale per i ragazzi imparare a mostrare rispetto a scuola che dopo poi voi vedete ecco poi sarete voi se avete voglia gli artefici delle vostre storie sociali perché voi sapete quali necessità e quali bisogni l'anno scorso io so per certo che in un istituto superiore un ragazzo con disturbo dello spettro che ha fatto la maturità con gli obiettivi ministeriali ha preso un gran bel voto hanno utilizzato le storie sociali perché era la prima volta che si presentava davanti a una commissione e perché se no non avrebbe salutato non avrebbe allora perché non perché non gli veniva spontaneo ma però sapeva di fisica sapeva di italiano sapeva di matematica aveva fatto tutto e la storia sociale l'ha aiutato a nella storia sociale e le loro insegnanti hanno colto uno strumento perché lui fosse pronto a salutare la commissione a presentarsi trovare un ambiente che in cui hanno preparato a un ambiente nuovo a un'esperienza completamente diversa allora rispettare significa essere attenti e gentili con le altre persone le persone mostrano rispetto con le parole e azioni gentili il rispetto aiuta tutti a sentirsi benvenuti a proprio agio e al sicuro descrive la situazione gli insegnanti e gli allunni qui invece i sentimenti gli insegnanti e gli allunni cercano di mostrare rispetto a scuola ecco alcuni esempi rispettare e usare parole e azioni gentili rispettare e aiutare attentamente un altro alunno rispettare e non fare un po' per uno rispettare significa essere attenti e gentili con le altre persone a scuola il rispetto aiuta tutti a sentirsi benvenuti a proprio agio e al sicuro questa ah Carol Gray è la pioniera delle storie sociali ecco ci sono dei è stata forse vi verrà data ecco una bibliografia dove abbiamo cercato di mettere questi perché alcune indicazioni se vi può interessare ecco avere un po' più di calma e vedere di utilizzarlo ecco io sono stata nei tempi del vostro intervallo vi ho rubato un minuto vi chiedo scusa se abbiamo accelerato nelle storie sociali però era ci sembrava carino proporvelo anche se in minuti ecco poi avrete modo di approfondire sui comportamenti problema è solo un piccolo focus nel senso che è un argomento molto vasto ogni situazione è a sé però volevamo darvi alcuni suggerimenti input anche su questo aspetto anche se sui comportamenti problema ci sarà una giornata appositamente insomma dedicata allora i comportamenti problema hanno una funzione cioè la persona li mette in atto per uno scopo per una funzione e le tre macro funzioni insomma che sono state individuate dagli studi sono per ottenere attenzione oppure al contrario non per ottenere ma per evitare o per sospendere un'attività oppure per evitare di stare con una persona di andare da qualche parte di fare qualcosa o per ottenere oggetti per ottenere il fare un'attività per ottenere qualcosa che si desidera no la prima cosa che viene in mente a tutti è faccio caos in classe perché voglio smettere di fare questo compito per cui ottengo di essere mandato fuori dalla classe e quindi il mio scopo è soddisfatto smetto di fare quell'attività ok proprio un esempio base base per capirci su le funzioni del comportamento nel disturbo dello spettro autistico proviamo a individuare quattro situazioni quattro caratteristiche di questi bambini da cui possono scaturire principalmente i comportamenti problema quindi sono le cose che abbiamo visto poi la difficoltà nella gestione della comunicazione e della comprensione verbale se io non ho uno strumento come il linguaggio verbale e non ho altri canali comunicativi che mi vengono insegnati mi vengono messi a disposizione come ad esempio la comunicazione simbolica e io non so comunicarti quello che sto vivendo un dolore che sto vivendo interiormente un dolore fisico se io non riesco a spiegarmi e se non riesco a capire quello che tu mi dici allora scateno tutta questa frustrazione rabbia eccetera prende la forma di una crisi comportamentale il secondo punto sono i repertori di abilità sociali inappropriati se io non ho gli strumenti per vivere l'interazione con gli altri per le mie caratteristiche che sono proprie e non mi vengono insegnati o comunque fatico ad avere comportamenti socialmente accettabili allora lì si genera il comportamento problema stereotipie e rigidità le abbiamo inserite qua per dirvi alcuni elementi anche di questo anche se possono essere meno dirompenti e poi il discorso grande che abbiamo già fatto della percezione sensoriale alterata c'è anche il tema del malessere fisico perché laddove un alunno è non verbale o poco verbale come fa a comunicarmi che ha male alla pancia male ai denti la dottoressa Roda riportava spesso il caso di un ragazzo che si batteva costantemente con i pugni in faccia e ci hanno messo un po' prima di capire che quel comportamento diretto verso se stesso era dovuto al fatto che aveva un ascesso a un dente e aveva un dolore tremendo e non aveva gli strumenti per dire ho male qui ho bisogno di una visita dentistica ok quindi quando andiamo ad analizzare dei comportamenti problema cercare di capire da dove scaturiscano teniamo sempre presente anche le situazioni fisiche cioè cerchiamo di escludere che quei comportamenti che vengono messi in atto non siano messi in atto perché hanno una causa che richiede uno specialista un medico d'accordo lì ovviamente il rapporto con la famiglia insomma è fondamentale bisogna incrociare le osservazioni che si fanno però ecco una volta che abbiamo escluso il malessere fisico allora possiamo anche concentrarci su tutto il resto ma teniamo in considerazione che c'è anche questa causa e la non capacità di esprimerla anche lì una strutturazione di schede visive tabelle simboliche con i mali più frequenti che questi alunni possono avere no perché a volte insomma i denti sono un punto debole però ci può essere il mal di pancia principalmente il mal di testa una tabella molto semplice con o male a e le parti del corpo due tre e l'aiuto dell'adulto nell'indicare il cercare di fare un percorso per capire che quella comunicazione simbolica può essere una via per comunicare un dolore può funzionare può essere una strada da tentare tutto dipende come abbiamo sempre detto dalle capacità cognitive di ciascuno dalla necessità di maggiore o minore simbolizzazione la gestione dell'astrazione il discorso che faceva prima Lorenza ok allora partiamo dal primo punto difficoltà nella comunicazione nella comprensione risorse limitate per controllare l'ambiente attraverso la comunicazione verbale non capisco cosa accade e perché accade come possiamo agire attraverso strutturazione dell'ambiente attraverso i supporti visivi e l'organizzazione di ruti instabili vado veloce questo è un esempio molto complesso molto complesso però un esempio che peraltro viene riportato nella nota sui comportamenti problema dell'ufficio in cui abbiamo una tabella al centro il simbolo del qualcosa che non va e poi ci sono varie condizioni di malessere che può essere qualcosa fa male sono triste sono arrabbiato c'è troppo rumore ci sono tante ho fame ho sete c'è qualcosa che non va e non lo so non so cosa c'è che non va vedete che è molto molto complessa questo era per darvi un'idea di come a seconda dei livelli gestiti dagli alunni possiamo provare a proporre una tabella che li metta in grado attraverso i simboli di comunicarci cosa c'è che non va naturalmente la CA va insegnata non è che possiamo somministrare una tabella così e pensare che ok gli abbiamo dato lo strumento siamo a posto però ci vorrebbe un corso solo per quello quindi ovviamente queste cose vado veloce questo è un altro tipo di tabella guardiamo come è strutturata in alto in rosso quindi anche i colori hanno una loro funzione se funzionano i colori con l'alunno e non sono distrattori ma in questo caso sono ben definiti sono riportati anche nella fascia centrale sono usati con un criterio usiamoli i colori in rosso ci sono le cose che che non vanno ok quindi la scritta dice quando mi sento e poi l'alunno può prendere una tesserina che corrisponde allo stato d'animo negativo all'emozione negativa ho bisogno di usare i miei strumenti puntini puntini e può scegliere una fra le tesserine gialle che sono delle immagini che raffigurano delle attività eh o dei luoghi comunque degli strumenti per calmarsi per gestire eh provare a rispondere alle sue emozioni negative e poi la parte verde più grande delle altre vedete che poi copre anche un po' eh e dopo io mi sentirò e in verde ci sono le tesserine delle emozioni positive questo per far capire anche che c'è un uno stato di malessere ma c'è la possibilità di fare qualcosa per stare meglio quali possibilità possiamo darci e allora ovviamente noi le sceglieremo con l'alunno o per l'alunno sulla base di quello che all'alunno fa stare bene ok quello che è a lui gradito naturalmente la capacità di mediazione dell'alunno fa sì che il suo intervento sia maggiore o minore nella costruzione dello strumento ma più gli strumenti li costruiamo con gli alunni più loro li sentiranno propri e quindi saranno invogliati a utilizzarli eh ok quindi l'input che vi volevamo dare era quello di creare degli strumenti e delle attività anche perché questo non è una cosa che riguarda solo quel singolo alunno col disturbo dello spettro autistico pensiamo a quanti alunni nelle classi hanno bisogno di alfabetizzazione emozionale per dirla con un parolone però di fare un percorso di comprensione e di gestione delle proprie e delle altrui emozioni no questa è una cosa che è pane quotidiano per tutti insomma e quindi fornire strumenti a misura di ciascuno per capire come calmarsi cioè dare delle pillole di consapevolezza del fatto che delle strade ci sono degli strumenti ci sono sento che mi sta crescendo dentro qualcosa ok prima di esplodere posso aiutarmi in questo e questo modo ok e far vedere aiutare a comprendere chi per suo funzionamento fa più fatica come si sentirà dopo ok rendere tutto il più concreto possibile queste sono due foto di strumenti realizzati qui in una scuola della provincia di Bologna un ragazzino non aveva assolutamente il linguaggio verbale ha scelto di costruire dei fiori ogni colore corrisponde a un'emozione vedete che nel rosso sbuca un po' la rabbia e il fiore diventa lo strumento per illustrare per dire per far capire per comunicare lo stato d'animo l'emozione ok pensate come questo strumento può essere giocato in una classe potete fare potete fare il mazzetto di fiori delle emozioni di ogni singolo alunno ogni singolo alunno al suo ne potete fare uno per l'intera classe potete insomma giocarvelo in tante modalità oppure ad esempio il termometro della rabbia far vedere come la rabbia può crescere dove c'è dove è il mio livello di rabbia oggi e posizionare dei ciappetti o qualcosa per indicare il livello di rabbia puoi spostarlo più in su o più in giù man mano che cresce cala sono solo due esempi per dire che anche a livello di lavoro con il gruppo ci possiamo giocare un percorso in questo senso che sia utile per tutti allora per quello che riguarda i reperimenti di abilità sociali inappropriati non funzionali al vivere insomma insieme vale un po' quello che abbiamo detto ma lo riprendiamo cioè insegnare abilità sociali semplici segmentare e lavorare su obiettivi che favoriscano lo stare bene insieme e fissandosi prima gli obiettivi prioritari e per piccole tappe e le regole valide per tutta la vita no abbiamo il famoso l'ottica del pensami adulto già dall'infanzia si lavora per dare strumenti a questi bimbi per vivere nel mondo perché poi è nel mondo che dovranno vivere e il microcosmo della scuola è quello che gli fa sperimentare la vita di comunità quindi l'esempio della storia che stava creando qui in diretta Lorenza prima del sto in fila anche io aspetto il mio turno eccetera quanto è importante nella vita saper stare in fila avere pazienza rispettare i turni non solo nella conversazione ma in qualunque contesto di vita io mi ritrovi a dover pazientare a essere con gli altri in un contesto difficile da gestire ok insegnare a generalizzare cioè quello che imparo con una figura con un insegnante lo devo saper gestire in quella maniera con gli altri in un contesto e poi allargare a più contesti far sì che le abilità che imparano siano proprio diventino il più possibile loro ecco stereotipi e rigidità no pensiamo a quanto a loro piace non solo il discorso del cullarsi con i dondolì di cui parlavamo prima ma anche quanto sono attirati dalle cose che roteano dai braccialettini morbidi di plastica con cui giocherellare no allora ovviamente il trastullarsi con oggetti di questo tipo può distogliere l'attenzione e farle estrarre in uno stato per cui non dedicano attività non dedicano attenzione alle attività che noi invece vorremmo che facessero no interferiscono negativamente molto spesso è proprio ciò che fa sì che noi li identifichiamo come ragazzi con il disturbo dello spettro però possiamo anche vederli in un'altra ottica possiamo provare ad utilizzarli come base di un contatto sociale nel senso guarda questo cioè usare gli strumenti che loro no utilizzano per perdersi in quello che li colpisce come aggancio con il resto del gruppo oppure visto che la base è che sono strumenti che a loro servono per ridurre l'ansia e per riuscire a gestire situazioni che altrimenti per loro sono troppo stressanti allora per i ragazzi ad esempio che riescono a gestire un contesto minimo di gruppo ad esempio proviamo a dire facciamo l'uscita al museo universitario dove ci sono i dinosauri a lui piacciono i dinosauri proviamo a vedere se riesce a gestire lo stare con il gruppo in quel contesto che comunque un po' gli è gradito allora sappiamo che ad esempio se magari non gli concediamo di poter utilizzare non lo so un braccialettino un oggetto minimo magari si metterà a correre a saltellare per tutto il museo allora lì si tratta di fare una scelta no? sto prendendo due esempi così cosa vogliamo da quell'attività? qual è il nostro obiettivo? vogliamo che abbia un comportamento un po' socialmente accettabile da vivere l'esperienza di una visita in un museo per cinque sale su otto almeno vogliamo che riesca a stare con il gruppo? allora potremo parlare decidere con lui oppure consentirgli l'uso di un piccolo oggetto che comunque è una stereotipia però comunque è più socialmente accettabile e gli consente di ottenere quell'obiettivo che noi vogliamo che faccia piuttosto che dirgli no basta questa cosa te la devi togliere e avere un comportamento ok in stereotipia molto più evidente molto più grosso che di fatto gli impedisce ok di partecipare è solo un esempio per dire a volte si tratta di operare una scelta di gradualità finalizzata quello che noi vogliamo avere ovviamente l'idea nostra di base è quello di affrancarli il più possibile da questi oggetti scegliamo a seconda delle situazioni la cosa che è più funzionale a quello che vogliamo ottenere mi sono spiegata ok quindi è comunque opportuno puntare a ridurli lentamente gradualmente stabilendo con loro dei tempi e dei modi se loro sono in grado di stare con noi a un minimo di contratto educativo d'accordo e come facciamo a non farli perdere cercando di farli stare sul pezzo il più possibile dandogli qualcosa che per loro sia motivante a loro misura adeguato ok assegnare loro uno spazio e un tempo allora per il tempo dello stare in pullman che di solito è una cosa che mal sopporti ti concedo di usare questo oggetto oppure per questo tempo ti concedo di fare questo ecco uno spazio e un tempo e poi lavorare in prevenzione aiutare a prevedere il cambiamento e far sì che l'alunno vada meno in stereotipia ecco sapendo che appunto l'eliminazione è molto difficile insomma da ottenere la percezione sensoriale alterata è un tema che abbiamo già toccato dobbiamo sapere che il dolore la paura il disagio ecco possono essere molto forti quindi cercare delle modalità anche qui di lavoro in prevenzione se sappiamo ad esempio che la campana o un rumore che è prevedibile in una scuola dove io insegnavo a mezzogiorno suonavano le campane della chiesa rigorosamente sempre con tutta una melodia molto lunga e era una cosa insopportabile però io so che a mezzogiorno di ogni giorno quella cosa succede quindi cosa faccio ad esempio se l'alunno insomma resiste posso fare un conto alla rovescia e prepararmi con lui all'attesa di questo evento così lui sa che arriva se non è una cosa sopportabile gli posso proporre delle cuffie in cui lui ascolta della musica che gli piace poi dopo verranno tolte dopo 5 minuti ok oppure per la luce pensiamo quante volte magari portiamo fuori i ragazzi per fare una sgambata e in realtà la luce è accecante fa sì che loro si mettano così subito e rasentiamo lo scoppio di una crisi ok i tessuti particolari l'abbiamo detto anche qui alleanza con la famiglia ci vuole una morbidente forte a volte per insomma il lavoro va fatto in collaborazione ok perché alcuni tessuti provocano proprio della delle reazioni che loro non riescono più a controllare per chi è ipersensibile al tatto attenzione ai neon ok attenzione alle texture di cibi ci sono colori di cibi che scatenano comportamenti problema se la pasta arriva bianca invece che rossa si scatena al finimondo allora lì ci vuole tutto il lavoro di concerto con chi di dovere per far sì che ci sia questa attenzione può non essere semplice però è una cosa importante e le texture di cibi sono anche quelle una cosa notevole se notiamo peraltro delle variazioni nel modo di masticare anche quello può essere un segnale di male ai denti se un bambino mastica sempre normalmente poi comincia a masticare tutte le cose in avanti e non mastica come prima o se uno che ha sempre avuto un momento di gran quiete e contentezza nel momento del pasto e inizia a scaravoltare in aria il vassoio col cibo chiediamoci se per caso non ha male ai denti perché possono essere segnali utili io ne ho visti quindi osserviamo tutto quello che possiamo osservare fare attenzione agli spostamenti che comportano spazi affollati spinte persone addossate le uno alle altre anche questo lo abbiamo detto anche se per caso ci sembra ma insomma in fondo il corridoio è veloce ci passiamo in fretta vedrai che non succede niente no basta poco ok quindi se prevediamo degli spostamenti in luoghi affollati rumorosi così cerchiamo di farli nei momenti più tranquilli ok quindi di fronte a stimolazioni dolorose cerchiamo di renderle quanto più prevedibili possibile creare angoli di decompressione di rilassamento adesso vediamo alcuni esempi ok se proprio c'è il discorso del mordere il discorso di avere bisogno ok di strizzare così ci sono in commercio oggetti specifici a tossici ok che non fanno male al bimbo puntare alle modalità comunicative ok e il lavorare sui compagni l'abbiamo detto vediamo qualche esempio di calm down kit ad esempio possiamo costruire questi contenitori componendoli con dei materiali e degli oggetti scelti dall'alunno oppure scelti da noi con l'aiuto della famiglia o dati dalla famiglia che l'alunno ritiene come rilassanti queste sono due immagini quindi l'alunno quando si sente montare l'agitazione può scegliere uno di questi oggetti se ha un funzionamento di lettura insomma del linguaggio simbolico e questa una tabella come quella che vi abbiamo messo può essere da lui compresa gli possiamo creare una tabella con delle attività tra cui può scegliere quindi attività per calmarsi oppure possiamo strutturare delle tabelle per aiutarlo a esprimere ecco il bisogno di una pausa quando abbiamo questi alunni che non stanno mai fermi che nell'arco di un'attività ci chiedono di andare fuori 40 volte di andare in bagno tante volte ci chiedono l'aiuto tante volte possiamo strutturare delle piccole tabelline con dei numeri di buono di pausa da richiedere e lui sa che se strutturiamo un'attività di mezz'ora in quella mezz'ora ci può chiedere due pause ok quindi un'attività di tot tempo ok l'attività dura così in questa attività tu hai questa schedina con 5 bonus pausa da utilizzare a che cosa serve a far sì che l'alluno si tranquillizzi perché sa che comunque delle pause le avrà non starà sempre lì costretto a lavorare e dovrà essere lui a imparare a gestirsele a gestirsi questi momenti di pausa perché le prime volte magari le userà tutte poi dopo si sentirà in difficoltà poi pian piano comincerà a dilazionare nel tempo le richieste di pausa e noi riusciremo a fargli tenere dei tempi di attenzione di concentrazione di lavoro pian piano sempre più lunghi o quantomeno lavoriamo in quella direzione e lo facciamo lavorare anche sulle sue autonomie questi sono esempi di angolo della calma in cui l'alunno ha gli oggetti che lo aiutano a calmarsi può avere un termometro delle emozioni ha comunque uno spazio morbido dove potersi rilassare accoccolare e sentirsi contenuto anche dall'ambiente più protetto questo è un altro ad esempio angolo tavolino dove poter fare una pausa uno lo può attrezzare con le cose che sa che funzionano ecco questo è anche molto ricco di input visivi ok bene una cosa fondamentale per lavorare in prevenzione e con questo concludiamo è la osservazione l'osservazione serve tantissimo per una volta individuato il comportamento problema osservare tutti in team chiunque lavora con il bambino ok osservare cosa succede prima del comportamento problema osservare il comportamento problema e le griglie in questo aiutano aiutano a togliere soggettività ok aiutano a togliere interpretazioni personali e darsi degli item di osservazione e osservare tutti quelle voci lì che ci siamo dati e poi cosa succede dopo raccogliere i dati fisicamente costringersi a questo misurare la frequenza dei comportamenti in un lasso di tempo congruo e misurarne l'intensità perché perché così possiamo trasversalmente vedere se ci sono dei punti comuni che scatenano queste crisi e andare a intervenire cambiando quegli elementi lì e vedendo se poi la situazione migliora è un discorso lunghissimo ok sono solo degli input ok questo l'abbiamo già detto quello che vi do come suggerimento visto che il tempo è finito l'ufficio scolastico ha messo a disposizione delle scuole uno strumento ricchissimo denso di spunti sia teorici che pratici suggerimenti operativi esempi di griglie da poter utilizzare che è la nota con gli allegati che si chiamano suggerimenti operativi per la stesura del piano di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali si parla anche di autismo ovviamente in questa nota vuole essere un supporto per le scuole vi diamo come rimando il fatto di andare a vedere tutti questi materiali perché sono veramente una miniera così noi abbiamo concluso e vi ringraziamo per l'attenzione vi diciamo che appunto le slide che saranno messe a disposizione potrete anche scaricarle in modo da poterle guardare anche offline con calma se avete domande siamo qua grazie grazie grazie